Ho messo un po' di musica Alessio, però hai visto qua Alessio ha chiacchierato con quelle su Instagram, però non è che si risolve molto Sto guardando il menù Che hai scelto? Non lo so Io penso che prenderò la carbonara in onore di Alici Chiudi con un primo? Chiudo con un primo Oh, l'esetto facchiera Guarda, anche io col vino, la carbonara, chiedigli solo di non spalmarci Doppio formigia, doppio pecorino Di non mettercelo sopra Carbonara, doppio pecorino? Già oggi mi ha portato il piatto che l'ho dovuto rimandare al mittel Pensa che è un uomo di mera, c'è la cameriera carinissima La persona più sensore e sorridente È arrivata Perché lui ha ordinato il piatto di pasta senza dire un cazzo La cameriera è arrivata Tieni, eccolo, buon appetito E lui ha fatto, sto piatto li portano dentro e c'è sta il parmigiano sopra Non l'ho detto così Di api il coraggio Ho detto mi dispiace non mangio parmigiano Non mangio po' formaggio C'è rimasta malissimo proprio per il modo di fare Vabbè, dici allora che vuoi, così vado su a ordinare Infatti mi dispiace perché è andata via L'ho vista passare prima E ci credo che è andata via Dopo quel modo, quel modo lì In lacrime No, la volevo salutare Infatti troverò il modo di salutarla Stolcherandola su Che schifo Vuoi prendere del vino quindi? Cioè l'approccio è Non ti ho salutato L'aggiungi su Instagram per dire Scusami se non ti ho salutato Ma già che ci sono ti saluto qui Esatto E poi Che fai stasera? Infatti stavo pensando di andare Sul Facebook o sui social del posto Dove probabilmente le avranno tagate in qualche foto C'ha le foto in costume mi sa Sul social del posto No, dicevo che le bollicine sono Sono da festa Le bollicine fanno festa Però non le digerisco Sì, infatti No, passeggiamo con il fermo Però il vino fermo non è molto da festa Vabbè, passeggiamo No, ma il vino è sempre da festa Passeggiamo Io avrei fatto Avrei fatto comunque una cosa Che scoppia Vuoi sciagolare? Beh, comunque Fesseggiamo la chiusura di queste giornate Ora voglio un saten Secondo te qui hanno un saten? O un equiparabile Un Trento Doc Un Franciacorta comunque Franciacorta saten Infatti immaginiamo Ma non avranno mai un Franciacorta qui No, Franciacorta ce l'hanno per forza No, andrò a vedere Per me è impossibile Però sì Portami una bollicina Non folle Carbonara anche te Carbonara senza il pecorino sopra Te carbonara con del pecorino Anche il pecorino d'Alessio? Esatto Doppio pecorino Ma è importante questa roba Se per sbaglio Li convincio Li convincio a farci delle bistecche Volete delle bistecche o no? Sì Come? Sì Qualsiasi tipo? Sì Quindi anche bistecche di cazzo? Sì Eh vabbè però Giordi Cioè Devi sposare la causa Alle estreme contraddizioni Cioè Rispondi perché è importante Palle di doro Bistecche di cazzo I coglioni di mulo Sai tutte quelle robe Va benissimo Andrò a sentire allora Basta poter tornare a casa Io signori non ce la faccio Allora perché scusa Con la bistecca di cazzo Non torni a casa? Cioè qual è il collegamento? A secondarvi A secondarvi fino a che non sono Tipo un elfo libero A cui sarei tutta bella stacca A non sentire neanche il tatuaggio Figurati Perché Sei che sta due giorni Per farsi 48 ore di tatuaggio Sì Sì me l'ha detto Me l'ha detto Ma pensati tatui stanotte? Oh ma stava Scusate Siamo in show Ma scusa Puoi spoilerarlo? Alla chat Fai vedere un po' di sotto tetta? Ma no Non posso farvelo vedere Growl Questo dragone Che dragone è? Tipo Komodo? È una roba giappana? È un drago giapponese È una roba giappana E sopra c'è il ciliegio Il ciliegio E l'anticristo No questo è Tomb Raider È un simbolo di Tomb Raider Esattamente E Hai già preso un puntamento? Quanto stai in sessione? E Gli ho chiesto Ma riesco a prendere il treno delle 6 Se Dopodomani? Perché fai due giorni? Due giorni di tatuaggio? No un giorno solo Quindi domani? Dopodomani E domani che cazzo fai? Lavoro Cioè Svedi due notti in albergo? Eh per forza Porca troia Più il tatuaggio Te costa lì Era di Dio St'avventura Però dovevo finirlo L'anno scorso E non siamo riusciti Ma piuttosto che finirlo Il tatuatore Scappato da Milano È venuto a Roma E porca troia Lei l'ha inseguito fino a Roma Cioè lui Fra un po' lo troviamo in Thailandia No doveva venire A Doveva venire a Torino Il giorno in cui C'è stato quel Deragliamento Trenomerci A Firenze A Torino perché c'era C'era la fiera dei tatu? No perché Era ospitato da un Da uno studio A Torino Lo sai che in Italia Mi pare che facciano Una delle fiere più importanti D'Europa Di tatuaggio Sì mi sembra Che puoi andare Proprio a farteli Cioè vengono dall'America Dalla Russia E si portano quelli che si chiamano In gergo Flash E ti fai Scegli un disegno E ti fai un Ti fai un tatuaggio Così E quindi Appunto Lo facciamo giovedì E gli ho chiesto Ma io vorrei essere a termini alle 6 Se iniziamo alle 11 Ce la facciamo a fare tutto Andrò molto veloce Andrà molto veloce Quindi sbaglierà tutto Lo troviamo con uno schizzo Tutto sbavato No piuttosto Piuttosto Spendi altri 500 euro Per tornare a farti Due sessioni Esattamente Non è male No non sono di Torino Però Sarai andata È più comodo che Roma Esatto Quanto ci mi si mette da Milano Un'oretta Un'oretta e mezza A Torino Dipende In macchina o in treno In treno o un'oretta Sì Con il Frecciarossa Un'oretta Ma se tu hai capito Perché ragazzi Purtroppo io non sapevo Che saremmo stati qua Fino a oggi Pensavo finisse ieri E non ho abbastanza camice Ho recuperato quella Che ho sudato di meno Perché quando ho indossato questa Era il giorno che è piovuto Ok E quindi era la meno impregnata Dei miei umori Che schifo Però si vede che un capezzolo Mi ha perso il colore Ha stinto E mi ha tinto la camicia Che spero che non sia Colorata di Aore Aureola In eterno Poi stamattina Sono anche stato sfigato Perché Quando mi svegliavo ogni tanto Per andare a prendere il caffè Giù a colazione Io mi faccio il caffè americano Poi me lo porto in camera E me ne sbatto il cazzo Ok Però Hai presente che Città di merda I palazzi sono del 1960 Sì Gli ascensori hanno quelle porticine Due Senza nemmeno la chiusura automatica Roba del genere Mentre provavo a chiuderli Portarmeli dietro Perché sono tre porte Che devi controllare Mi sono ribaltato il caffè Sui pantaloni Allora sono andato Mi sono lavato con un asciugamano Perché non avevo nient'altro I pantaloni Che era un unico paio di pantaloncini Che avevo Poi ho detto Faccio la cacca Mentre faccio la cacca Mi è crollato Il coperchio del sciacquone addosso Mentre facevo la cacca È stata una mattina Veramente Veramente stressata Intensa Poi Pierpaolo Ricordiamolo Il pezzo di merda Che sciabola Alla faccia mia Mi ha detto Non ti preoccupare Piove Ti porto io Alle due Ti passo a prendere Che così siamo qua Roba del genere Alle due Meno cinque Lo sento a telefono Ma stai arrivando No no Vieni a piedi Faffanculo Pezzo di merda E non solo A lei invece Ha mandato un messaggio Dicendo Un'ora prima Non credo che vi passerò A prendere No no Ho detto È una cosa Che non ha molto senso Poi sento Alessio E io gli ho detto Io sono andata al cinese Ho preso Un ombrello E sto andando adesso Sto andando adesso Il White Rabbit Io veramente Guardate Prima sono uscito a fumare Una paglia E la macchina di Pierpaolo È parcheggiata A metà sulle strisce pedonali Proprio qui di fronte Al White Rabbit Ho pensato Siccome ha dello spazio Adesso dietro Sufficiente per uscire Dalle strisce pedonali Mi hai sentito dire Pierpaolo Vai un attimo su A spostare la macchina Spero veramente Che gliela facciano brillare Quella cazzo di macchina Di merda Gliela facciano brillare Molto bene Magari è andato anche A spostarla adesso Speriamo di no Perché non penso Che vada fuori A controllare la macchina Stavo pensando anche Di chiamare i vigili Chiamiamo i vigili Esatto Che intracciava il traffico Pugliss 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 Abbiamo la bistecca di cazzo Ho due ottime notizie Allora Mi hanno detto che La pasta Non la fanno La fanno solo a pranzo La carne te la mette in culo E la carne ve la prendete in culo Quindi dovete scegliere L'hamburger O l'insalata E il vino almeno Il saten Ha detto sì Dovrei averci qualche bottiglia Però intanto scegli che mangiare Non sono arrivata Al dettaglio del saten Quando mi presenta Arriva con un prosecchino De Valdobbiadene Della pata Purtroppo O tu non gliela hai detto No gli ho chiesto Hai della bollicina Hai detto Sì qualcosa sì Scusi ma gli hai detto Mi piace quando mi dai scusi Mi dai lei Mi dica Gli avrai chiesto Hai del vino frizzante Esatto Gli hai fatto Ce l'hai un frizzante Devo sentire E lui ha fatto Certo aspetta che mi giro Quindi Carne in culo E pasta in culo Perfetto Il bello che gli faccio pure Dai dopo tutti Ho fatto anche il simpatico A lei perché gli ho fatto Dai ma dopo tutti questi giorni Sono avuto che cambiate il menù Ci fate la bistecca Fa no Guarda si cazzi New lobster Però mi hanno detto Che se volete No è finito Come è finito Come è finito È finito Mi hanno detto però Che se volete Perché stai in cucina Se volete Mi ha detto Mi può fare il piatto Con l'hamburger Se non volete il panino Quindi lo tagliate Come degli idioti Magari è cambiato Magari è cambiato tutto Quello nuovo Silenzio un attimo No perché gli ho detto Che cazzo pensi che stessimo facendo Niente Le scorreggio con le asciende Però io non so che cosa Ordiniamo Io ho mangiato tutto il menù Tre volte Abbiamo fatto tre giri del menù Tre volte il menù Ho mangiato Prendo un pullet Pullet pork Da Maxi No piccolino Piccolo Neanche base Mini No non lo so Perché ho paura di non finirlo E non finisce Alessio Tanto lui mangia tutto È come la fogna Allora normale A cielo aperto È come una turca Di Calcutta È come una turca Alessio Molto bene Voglio sentire Alessio cosa prende Però vorrei Spezzare una lancia In favore di Alessio Perché tutti dicono Ah che schifo Prima stavamo parlando Del fatto che ha sudato Ah chissà che puzza Non puzza No non puzza Alessio non puzza Non mi cacero che bab Alessio non puzza Per quanto sia riprovevole E ripugnante E ripugnante Non puzza Non da quel punto di vista specifico Almeno non puzza di sudore Non sai se gli puzza il cazzo In mezzo alle gambe Di sicuro non puzza di sudore Né lo vuole mai scoprire Di sicuro non puzza di sudore Non è Non è una domanda che mi facevo Perché non prendi Alessio prendi un croquette L'ho già mangiato il croquette Un binit Ardo di colonnata Pecorino romano Se lo mettessero in culo Un Norway Questo non è male il Norway L'hai mai mangiato? L'ha mangiato lei E' buono Buonissimo Io avrei preso infatti il Norway Io prenderò stasera Molto buono Sì però voglio il Norway Senza il panino Non si può Perché ho detto Solo gli hamburger Li fanno al piatto Tutto il resto È già pre-assemblato Scusami Ti sembra un hamburger? No però T'ho prescoltato Che comunque È sotto il menù burger Quindi non lo possono No non è sotto seafood Della variante Del bur Della grande cornice del burger Cioè io te vorrei andare su Adesso a dirgli Che vuoi un Norway Senza panino? Sì come tu Prenderai Io prendo un Norway Col panino Non si può prendere senza Vedi che non c'è neanche Come quell'altro mini Prendi sto cazzo del Norway Lo vedi che non c'è Però ti puoi lamentare Che il new lobster Ecco perché dicevo new Perché è nuovo Però allora prendi un altro panino Prendi un altro panino In modo tale Che quando mi lamento Gli dico che panino ho preso io Che in verità è il tuo Così poi sono sicuro Se sputano nel panino Sputano nel tuo Prendi sta minchia del Norway Vai veramente un Norway L'hai mangiato l'octopussy? Sì l'ho mangiato l'altra sera È molto buono l'octopussy Ho mangiato con Aligione Il binit? No il binit però è veramente Cosa? Ragazzi È buono È buono È buono È buono alla curcuma Bun Burger di facioli No bun Bun alla curcuma Bun No è bun B-U-N si legge bun Per me si legge bun Bun alla curcuma Burger di fagioli borlotti Carota e zenzero Pensa pensa allo zenzero Yogurt alla barbia bietola rossa Cicoria ripassata Carote all'arancia Cioè Penso che È tutta criptonite Non c'è niente di commestibile Non c'è nessun formaggio Niente di commestibile Ma non c'è nessun formaggio Scusa Ma non mi fa neanche cagare questa cosa qua È proprio È repellente Però adesso C'è veramente mille problemi nella tua vita Sì Sì Quindi No che poi ho mangiato l'hummus Che comunque è vegano Lo stout beef Lo stout beef Ci ho pensato Però ci sono le scaglie di fama No Le scaglie di cioccolato ci sono Scaglie di cioccolato fondente No c'è il Castelmagno Che non è Montemagno Sì esatto È un formaggio del merda Dai Porco rosso No vai di Norway Che cos'è Cosa c'è del porco rosso Van alla paprika Spalla di maiale sfilacciata Slow cooked Verza rossa stufata Guanciale E ketchup Landuia di spilinga Cosa ti crea se devi guidare Cioè non è che fa qualcosa Conta che tanto d'arriva D'arriva una bollicina sgrassante Alessio Prendimi il Norway Che sta perfetto con la bollicina sgrassante Per me sta meglio il porco rosso Lo mangio alla prossima Alla prossimo inizio Della settimana Delle live L'anno prossimo Quindi sposti anche la macchina? Sì Sì per forza Ci siamo L'ultima cena ragazzi Andate in pace Chi mi tradirà questa sera? Chi sa se gli hanno fatto la multa Nel tempo Comunque non tenete neanche il piscio Vi dovreste veramente Vi dovreste veramente vergognare Fate cagare Cioè gliel'avete detto subito Ho dovuto mettere una pezza Ho dovuto inventare Di averlo visto Dieci minuti fa Quando è stato a inizio live Chat spiona Che vino ha preso Lui dice una bollicina Adesso vediamo Che tipo di bollicina Quando arriva Chat amica delle guardie Esatto Chat amica degli sbirri Chat amica degli sbirri Ma il tierone di Xbox Lo facciamo durante la cena Facciamo Xbox E a scalare in qualità Fino a tutti i garden Dell'Holsom Che non ci arriveremo mai più Esatto Ma non potete ordinare Da un'altra parte? No non possiamo ordinare Da un'altra parte Siamo dentro un locale Non è che permettono anche Che ordiniamo da un'altra parte Andiamo a prendere un E poi ti dico Qua sulla fiducia Non ho mangiato niente Di cattivo C'era qualcosa Che poteva non piacermi Ma questione di gusti personali Tutto il resto C'è una cura Nella preparazione Mangiati panini da sei giorni E almeno uno dei due pasti Sempre A mezzogiorno Ho mangiato una volta La pasta e una volta L'insalata Ho mangiato le trofie Col pesto e i pomodorini Decenti Il pull head Piccolo No medio Medio E poi Ho mangiato L'insalata Quella con l'avocado E il salmone Affumicato Buona però Preferivo un hamburger Ok E qui è pieno di vigili urbani Carabinieri Siamo tutti Vostri fan Bravissimi Bravissimi Però siete di Roma Fate ancora in tempo A venire a rimuovere Quella macchina Sulle strisce pedonali Vero Sì ma Giordana Va in palestra Tu al massimo Ti prendi un picco Di colesterolo Non solo Calcola che io Ho fatto di tutto Io sono due settimane Che sono ferma Però lei per esempio Ha camminato I dodici minuti Che ci sono da qua All'albergo Io ne ho approfittato Sempre per prendere Il monopattino Perché mi sento Molto urban Quando vado Devi di nuovo Ah no Stasera mi faccio portare Da Pierpaolo Poi non lo prendo Per forza Perché io vado via Uno dei due Mi deve portare in albergo Non torno a casa Uno dei due Mi deve portare in albergo Stasera Che poi devo dire È anche caro Perché questi 12 minuti Che non so quanti chilometri siano In realtà sono 2,80 euro Che in certe condizioni Ho portato 2,40 euro Comunque Non è economicissimo Come dicevo Secondo me Dovrebbero incentivarlo All'infinito Ne parlavo con la Ligione L'altra sera Cioè C'era questa paura Si è dimostrata Immotivata Che tutti morissero Con questi cazzo De monopattini In giro per la città Non è morto nessuno Cioè Veramente Sarà usato Da centinaia di migliaia Di persone ogni giorno Mettilo Incentivalo Fallo costare un cazzo Punto Fallo costare veramente Un euro E vai dove cazzo ti pare Nell'area Con contributi dello Stato E vedrai che finalmente Grazie mille Ah vieni pure qua Sì grazie Stai test Ah sei sicuro Che non vuoi Stavo per dire test Di cazzo di Romani Però non è molto carino Perché c'è l'ospite Sì grazie mille Che cos'è Che lo dobbiamo comunicare Ai ragazzi che ci seguono In Kino Brut In Kino Brut Di dov'è Un Trento Doc Che cos'è Sei sicuro che non voleva Aprirlo più È un Franciacorta Ah forse lo vuole Aprire in là E vuole stappare Ci pensa Ci pensa poi Quando arriva Grazie Ti ringrazio Dicevo che dovrebbero Incentivarli Perché così almeno Smettono di prendere Le macchine Perché io non ho mai visto Tante macchine parcheggiate Come a Roma In doppia fila Se non a Napoli E poi Aspetta Sai cosa ho visto oggi È brutta È detta così E poi sai cosa ho visto oggi Andavo col monopattino C'era gente in doppia fila Dove di fianco Aveva il parcheggio Nelle strisce blu Cioè ma Solo perché Era provvisore Perché c'era dentro Sì ma tirati via dal cazzo Cioè il parcheggio di fianco Dai Cioè non c'è Non c'è limite Comunque sì Dopo Dopo lui mi piscerà Nel cocktail sicuro Al cento per cento Dopo che ho detto Tutta sta roba Che stupido Che sei Alessio Allora C'è Una rissa Tra teenager Nei Nei bagni No invece Non so se sei mai stato a Torino Sei presente come parcheggione a Torino Grazie Grazie mille Un Trento Doc ragazzi Grazie Grazie mille A Torino Cosa stai facendo Ragazzi andate subito online A vedere le recensioni di In Kino Trento Doc Visto che Pierpaolo me l'ha spacciato Come un vino recente Me l'ha spacciato No è tutto fuori fuoco Alessio No 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 Dicevo A Torino Fanno questa cosa meravigliosa Per cui quando non c'è parcheggio Parcheggiano a cavallo delle strisce Ah in mezzo alla strada In mezzo alla strada In mezzo alla strada In mezzo alla strada In bellissimo Ci ho parcheggiato anch'io Quando c'è stata la festa Quando arrivo a Roma Sono de Roma Ma infatti io Quello là in mezzo alla strada Io ho detto Oh ma moglione Ma che sta a fare Sta a parcheggiare Io ho preso il monopattino Solo il primo giorno Credo di aver litigato Con tre persone E scusami Dicevi a Torino Che cosa succede di particolare E no Che c'è la linea divisoria Vuoi vedere la sovraimpressione Della programmazione Già esaurita Poi appena ricominci a parlare Trovo un altro modo Più originale Per interromperti C'è la linea divisoria Delle carreggiate Riga di mezzeria Ci parcheggiano a cavallo A Torino Ah a Torino Beh come qua però scusa Sì perfettamente In mezzo alla strada In mezzo alla strada No però veramente Serve una rivoluzione Totale della morbidità Cittadina Infatti dovrebbero qua Dovrebbero chiudere tutto il centro Chiudere tutto No dicono 4 stelle Su Vivino Oh Oh Ma da uno Da uno che passava di lì Che era il PR De De Inchino Nature Del metodo classico Di Chini O La recensione di Vivino Proprio Che stupido Usano ancora il cavallo Sì la polizia I carabinieri A Torino Ma dove è a Torino? Sì Perché? Perché fa scena No allora Perché puoi andare in territori inesplorati Puoi correre Puoi rincorrere gli spacciatori attraverso i parchi E certo Vabbè ma ci saranno 800.000 mezzi Cross No perché le gazelle Perché sono Perché fanno rumore Invece il cavallo è stealth È quello di Assassin's Creed È un po' più silenzioso il cavallo E tendenzialmente E anche Anche le moto Come si dice O i cross Là Non Cioè Tutta la parte di collina Dietro a Torino In cui vai solo a cavallo E in cui ci sono tutti È tipo dock town La collina E quindi devi andare lì A catturarli Ma non ti devi far sentire Sai che a Torino Usano i cavalli Carabinieri La polizia Perché 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 i cavalli sono stealth Guarda che è un attimo Che mi chiavi un occhio Non te lo posso cavare Ma se ti colpisco Però me lo colpisci un po' qua Che spingi la palla E Esce dall'orbita Ma c'è ma siete tipo Ho capito A me A me fa paurissima Prima o poi Prima o poi Invece di al lupo al lupo Mi spari in faccia A me fa paurissima Ma perché te lo devi aprire Con le mutante del cazzo Non boxer Quindi dovevo dire a lui Che lo voleva aprire Di aprirlo Però abbiamo detto Pierpaolo vuole celebrare Vuole sciabolare Beh ma fai un po' di No è andato Ma che stanno qua Siamo Non stai a Roma Non stai a Versa Però ti vuoi far portare il ghiaccio Io lo stavo per chiedere Un cestello Io potresti chiedere Ma pure Adesso quando porta i panini Gli chiediamo il cestello Perché non è neanche freddissimo Non mi dà l'impressione neanche Di essere freddissimo Grazie Ho preso un talento doc Perché era l'unico Di livello Leggerissimamente Guarda Hanno spacciato Qualcuno che ha sparato la cazzata Ha detto 4 stelle su Vivino Chiudi anche la porta Andrebbe molto più freddo Perché abbiamo questi piccoli momenti di cuore Gli chiedi se mi porti Ci metto dentro il ghiaccio Ci posso mettere dentro il ghiaccio Grazie Grazie Alla nostra E a tutti voi Chat E a tutti quelli che sono passati Ad Alessia a casa A Kobe che è rimasto totalmente a casa Ad Alici che è tornato a casa Ai moderatori che si saranno sbattuti Come dei bandi A Vincenzo e Francesco Che stanno tornando a casa Che non è ancora detto Perché non l'hanno raggiunto Ma per fortuna Stanno tornando a casa Abbiamo Giordana Non so Perché lei ha questo problema Mi ha detto Che monitorà Sì 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 Una malattia Scanner gli aeroplani dell'altra gente Infatti non gliel'ho detto Su che aeroplano sta infatti Si è delle merde Ho capito Ma non è normale Giordana Ma prendi un numero Dagli un numero di volo a caso Per Paolo Così lo vede a Giacarta Si preoccupa Ma mi bastava l'orario di partenza Per vedere come stava Francesco E come stava Vincenzo Ma cosa ne sai come stanno Magari l'aeroplano sta benissimo E lui ha un infarto Magari lui sta male Magari ha un infarto Ma almeno so quando atterrano Quanto ci mettono Scusate l'hai visto Succession? Ah non voglio spoilerare niente No non l'ho visto Succession Scusate un attimo Stavo cercando se trovavo Il volo di Serino No se mi aveva lasciato scritto qualcosa Saluto Massimo tra l'altro Vedo che vi sta seguendo Massimo Ne approfitto per salutarti Allora Raffaele mi ha detto Che lui non è abituato a vedere A fare pre-stour Quindi mi ha già detto Che alle 18.33 Sta morendo di sonno Andrà a dormire Mentre è in pre-stour Grazie Raffaele Salutate tutti Raffaele Che sta pronto a morire Il nostro uomo L'action hero Lo possiamo definire? Sì il nostro action hero Action hero Sì Action hero John Allora Ho una domanda Che mi è arrivata Non ti dirò da parte di chi Ma questa domanda È chiaramente per te So che adesso è sul pezzo Secondo te Questa cazzo di acquisizione di Activision La chiudono? Ho azioni Activision Che non vanno da nessuna parte E mi sto proprio rompendo Tengo o esco? Aspetta però Non è un consiglio finanziario No però È folle quello che dice Perché contraddice Io lo dico? No Chiunque egli sia Perché c'è una cosa Ho delle azioni Activision Che non vanno da nessuna parte Sì Nel senso che le vede evidentemente piatte Magari le ha comprate un anno fa E le vede sempre piatte E però scusami Adesso sono fisiologicamente piatte Perché non si possono muovere Perché c'è un'offerta d'acquisto Eh Quindi lui vuole Che vengano acquistate No lui dice Che faccio Tengo ancora Perché magari l'acquisizione si chiude Fra due anni O magari non si chiude Quindi ti chiede un consiglio Le tengo o esco? Sai come la penso Non gli do un consiglio Ma io penso che Sia che le tieni Però vuol dire che Hai fatto il Come cazzo si chiama L'investimento In previsione della vendita Quindi sei contento Dell'acquisizione Semplicemente Tiene fino all'acquisizione Se l'acquisizione salta Il mio punto di vista È che guadagnerai di più Quindi non Esattamente Quindi per Alessio È un win-win Cioè tienile Perché è un win-win Perché se si chiude l'acquisizione Però si può andare avanti Un anno sta roba Esatto Teoricamente Se va avanti l'acquisizione Teoricamente prenderai Quanto era? 95 dollari ad azione Esatto Quindi sicuramente Di più Di più di quando sei entrato Se non dovesse andare Però dovevi apazientare Chissà quanto tempo Se non dovesse andare in porto Dopo gli scossoni iniziali Ci sarà un po' di rimbalzo Ma poi al 100% Decollerà Perché con quei risultati Di Diablo Di Call of Duty Sarà solo per 100.000 Sì la prima volta Che rilasciano Una trimestrale Siccome è da ieri Che continua a leggere Sta stronzata in chat No attenzione Bloomberg dice che L'FTC vuole bloccare Sì ma Ragazzi è un anno È da un anno Che lo sta dicendo Che vuole provare A bloccarla Ma un conto è provare Un conto è riuscire Come dicevano Ha i suoi strumenti Sicuramente Sicuramente è chiaro Che non la vuole Far passare in cavalleria Ma da qui A bloccare Comunque l'acquisizione Ci passa Anche perché Ricordatevi Come dicevamo Il 18 luglio Si chiudono i termini Per l'acquisizione Da parte di Microsoft A meno che Non ci sia Un voto Del board Che prolunga I termini Dell'acquisizione Che però vorrei dare Per scontato Perché Quindi L'attuale L'attuale Ingiunzione Messa in piedi Dall'FTC Prevede Che il caso Si dibatta Ad agosto Se non addirittura A settembre Quindi quella notizia Che avete letto ieri Che vi ha tutto Scaldato gli animi Non è che è la novità Che vuole bloccare La questione Semplicemente Sta cercando In giro per l'America Il primo giudice Distrettuale Che sia D'accordo Con l'FTC E quindi Acceleri L'inizio Della causa In modo tale Che sia precedente Alla data del 18 luglio Perché L'FTC sa Che se non si sbriga A intervenire Microsoft Chiude l'acquisizione Loro vogliono Che si parta La causa Prima che Microsoft Abbia concretamente Chiuso L'acquisizione Anche se in realtà È un po' Non senso Perché teoricamente Microsoft Non chiude l'acquisizione Finché non c'ha la CMA Che gli dice ok Infatti Dipende dalla CMA L'FTC in realtà È irrilevante Dopo Ha tutto il tempo Per rompere i coglioni Però ovvio che È un po' più complesso Come procedimento Andare a Lavorare Su un'acquisizione Diciamo che Diciamo che l'FTC Tendenzialmente Non può veramente Fare nulla Oggi il problema È la CMA Perché chiaramente Se tramite il CTA Lì L'appello Di Microsoft CMA No CMA È quella inglese No è l'appello Come si chiama Al CTF Al CTC Come si chiama L'organo A cui hanno fatto l'appello La CMA E l'antitrust inglese Vabbè avete capito Finché al CAT O come si chiama Il CAT Cut Esatto Finché il CAT Non obbliga La CMA A rivalutare La fusione L'acquisizione Oppure Conferma Quello che ha detto La CMA Perché ovviamente Può anche confermarlo Cioè finché tanto Non si dirime quel nodo Cioè l'FTC Ha veramente valore zero L'abbiamo detto Centomila volte Cioè l'FTC Per bloccare questa acquisizione Dovrebbe per l'appunto Convincere una serie Di giudici distrettuali Che vanno Portano avanti Che portano la causa In tribunale Poi ovviamente Con la causa in tribunale Deve effettivamente Essere evidenziato Un problema Di ordine Monopolista Che porti il governo A intervenire Per bloccare l'acquisizione Cioè in America È veramente molto complesso Che questa cosa avvenga E comunque Qualsiasi decisione Poi venga presa E' appellabile Esatto Tra l'altro c'è l'appello Esattamente come è successo Con la CMA Con la differenza Che L'America è veramente Molto difficile Specie se poi Riviene fuori pure Trump O qualcun altro È veramente molto difficile Che blocchi Questo tipo di acquisizione Quindi Sembrerebbe così Quel dibattito lì Non del dibattito Quella evidenza Quella notizia Riportata su Bloomberg Che veramente ha valore zero Questa cosa qui Cioè è tra l'altro Una cosa che si sa Che l'FTC la vuole bloccare Ma ne parlerete più Nel dettaglio Domani al cortocircuito Come no Assolutamente Cortocircuito che domani Non ci sarà Ma stiamo attendendo Conferme dal New York Riguardo alla possibilità Di farlo giovedì Dal New Yorker serino Esatto Da un grande cortocircuito Post pandemia L'hanno provato a fare La glass action in America Per ben due volte Tutte e due volte Sono stati rispediti Al mittente Perché il fatto Non sussiste Quindi è già stata fatta Questa cosa Meglio che non fai previsioni Più hai visto Come è andata fino adesso Non so che significa Wolfgang Direi che fino adesso È andata che sta Per concludersi l'acquisizione Onestamente Quindi Mi sento abbastanza tranquillo Di continuare a fare previsioni Onestamente Allora Il voto del Catt Potrebbe ancora confermare O ribaltare la situazione Sì attenzione Bravo il Cestello Il voto del Catt L'abbiamo già spiegato È un po' diverso Il Catt Più di tutto non vota Semplicemente Si esprimerà Quanto prima Adesso a brevissimo Ci sarà La seconda fase Cioè quella che conferma La data finale Del dibattimento Si esprimerà Si esprimerà Nuovamente per Fondamentalmente Per discutere Cioè si esprimerà Per dire Allora No Quella la decisione Presa dalla CMA È valida Basta Non si può più discutere A quel punto È finita per Microsoft Perché non c'è Un ulteriore grado di appello Cioè nel momento In cui il Catt Dice che la decisione Presa dalla CMA È Confermata Fine In Inghilterra L'acquisizione Non si può fare Poi si valuterà Cosa fare In chat Dicono Poi Piera Ha vinto il bingo Delle previsioni He is untouchable Ma è vero Questa vostra convinzione Che si bloccherà Che non si conclude Oddio Tanto tranquilli Che Microsoft Non ce la farà Cioè questa sorta Di votazione Questa sorta di tifo Folle Non Cioè non ci sta Dopodiché Il Catt Si potrebbe esprimere Invece di dire Alla CMA Siccome reputiamo Invalida La motivazione Che hai adotto Per bloccare L'acquisizione Ovvero tutto quel dibattito Sul cloud Perché tutto lì Si annita Tutto quel dibattimento Sul cloud Sì lì si Viene alla grandissima Stai scherzando Tutto quel dibattimento Sul cloud Gentilissimo Intanto Grazie Almeno che Si può esprimere Su tutto quel dibattimento Della CMA Non ha valore Tutto il dibattimento Sul cloud Non sussiste Quindi tranquillamente Non è tanto Che deve ritornare Perché anche qui Non è che il Catt Dice alla CMA Di cambiare idea Dice Può dire Grazie mille Può dire alla CMA Di rifare l'analisi È quello Quello che avviene Poi magari la CMA Rifa l'analisi Ridice la stessa cosa Cioè quello là Non si scappa Hanno portato un pigiamino Ghiacciato alla nostra bottiglia Sì hai visto Non è tifo il realismo Abbiamo tutti Hai visto abbiamo tutti Dei grandissimi studiosi Di acquisizioni Di aziende Hai visto Tutti grandi studiosi Io ammetto Che da quando La questione È partita con L'appello Amico appello Questo e quell'altro Io ho perso Totalmente interesse Per la questione Perché Si sono spostati Cioè La seguo E cerco di seguirla E di rimanere informata Perché ovviamente Fa parte Delle notizie Che gravitano Attorno Alla mia area di competenza Ma Riconosco Di non avere Al tempo stesso La preparazione Per Cioè capirne Di ricorsi E cose di questo tipo E detto col cuore Non me ne frega Nemmeno Un cazzo Ma Come i nostri utenti Sei come Tutti questo gruppo Di fanboy Che vuole Non vuole Che l'acquisizione Sa da fare Non te ne frega Un cazzo davvero O Ti piacerebbe Venisse completata Per una serie Di risvolti Che c'è A me piacerebbe Vedere Dei bei giochi Uscire fuori Da Activision Con la consapevolezza Che l'azienda Non è la merda Che è stata Fino all'anno All'anno scorso Quindi Cioè Se l'acquisizione Porta Ha un ritorno Di un certo tipo Di giochi Fanno delle ristrutturazioni Sensate Hanno un controllo Diverso sulle politiche Aziendali interne Eccetera Eccetera A me sta bene Cioè intervengono Per ripulire Activision Blizzard Esatto Per ripulire Activision Blizzard Anche perché poi Nel momento in cui Tutte le persone Cioè Tutto Tutto l'organico Fa comunque Riferimento A Microsoft Cioè Microsoft Si vede bene Da tenere A parte che La gente più problematica È già stata Allontanata Da tempo Sì Però Chi te lo dice Che è una cosa Di questo tipo Non si possa Ripresentare E Tra l'altro Operazioni di questo tipo Cioè Ci vuole Tanto tempo Per portarle avanti Guarda Io non escludo Ad esempio Che Cioè So che sembra Una cosa Lontanissima Però in realtà L'effetto farfalla L'effetto valanga È molto più Impattante Di quanto non sembri Il fatto che ieri Ubisoft Sono saliti Tutti sul palco Hanno fatto vedere Gli sviluppatori Si hanno fatto L'ultima parte Tutti insieme Con le fontini La grande fontina Cioè Loro Hanno visto Delle porcate Importanti In azienda Gente che Cioè Veniva pagata Dalle risorse umane La gente che diceva Questo pezzo di merda Mi ha messo le mani addosso Mi drogano in bicchiere Alla festa di Natale E loro ti dicevano Ecco Questa è una mastercard Da 150 euro Basta che non parli Ok Cioè Loro escono Da quella roba lì Ne parlavamo anche prima Il fatto che Perché chiedevano Ma beyond good and evil È il fatto che Ansel se ne sia andato Guarda caso Qualche settimana prima Quella incredibile Che è scoppiato il bubbone Cioè A me stai dicendo Che lui a un certo punto Ha avuto un'epifania Lui ha avuto una soffiata E ha saputo Che era fottuto E quindi ha deciso Di farsi andare A farsi la vita Nei boschi E per riabilitarti Da quella merda lì Ce ne vuole Tanto Ma proprio tanto Sto tanto leggendo È molto interessante Mi piace tutto questo dibattito Che fai È super interessante Vedo c'è tanto Continua ad esserci È tanto dibattito Incredibile Ma anche molto piacevole Vorrei una vostra opinione Fosse già conclusa O fosse stata subito negata L'acquisizione di Activision Blizzard Microsoft A cosa avrebbe puntato? A niente ragazzi Semplicemente avrebbe speso soldi Per levare i giochi a Playstation Esatto Perché secondo me Non ci sono altre cose in vendita Con quel valore Poi con quel valore Di franchise così grosso No perché sai che tutti dicevano Pensai che tutti dicevano Ah no perché Ubisoft Ormai sta andando a gabballare Ubisoft Non si vuole vendere Non si fa vendere Non si fa vendere Cioè piuttosto dà le quotine Ai cinesi Esatto Ma non si fa comprare Non gliele può fregare De meno La stessa cosa Electronic Arts Assolutamente Electronic Arts ha interesse A stringere E le abbiamo viste Per tanti anni Delle partnership Delle esclusive Una sinergia particolare Con Xbox Ma non ha intenzione Di farsi comprare Electronic Arts Specialmente adesso Dove anche loro Sono usciti A grandissima fatica Da tutto quel merdaio Delle luce Eccetera eccetera Cioè anche loro Che non hanno avuto Problematiche interne Di tipo organico Ma che comunque hanno fatto Le loro porcate Schifezze Anche loro Stanno uscendo Adesso Sono d'accordissimo E ribadisco Avrebbero fatto Semplicemente Avrebbero messo in pie Probabilmente Se saltassero Un'acquisizione Così grande Non so quanto Riverserebbero soldi Su altre società Perché forse È l'unica Che dei francesi Di valore E tu che Sì vanno a rompere Completamente il cazzo A Sony Con la loro stessa moneta Cioè togliendo Giochi all'altra piattaforma Perché è chiaro Che nel momento In cui rimangono scottati Da un mercato Che non evidenzia Come Chi ha la posizione Di dominio Chi ha la posizione Dominante Si permette Di continuare A sottrarre Giochi Alla piattaforma Che è in terza posizione E Gli organi Il mercato Dice È giusto così Chiaramente Che in quel caso Microsoft Che ha i soldi infiniti Suppongo che possa rispondere Con lo stesso sistema Si siede con Activision Blizzard I cui rapporti Ormai sono veramente Locorati secondo me Locori con Sony Gli dice ok Call of Duty Me lo dai in esclusiva Per cinque anni Si siede con Electronic Arts Si fa ok FIFA me lo dai in esclusiva Per cinque anni Ma poi Anche tutta questa cosa Di Call of Duty Semplicemente Tutti pensano Che Call of Duty Sia la wild card Sia il più quattro Che butti sul tavolo E inculi tutti Ora Al punto in cui Sono arrivati Con Call of Duty Cioè Secondo me Non è una Cioè Call of Duty Secondo me È uscito Dalla sua fase Di macchina Maccina soldi Si si Dalla sua fase Di crescente Nel senso Sono usciti Dei Call of Duty Mediocri Dei Call of Duty Bruttini Che hanno continuato A vendere E Call of Duty Continua a vendere Tantissimo Ma non credo Ma non credo Che gli ultimi due Quello della seconda guerra mondiale E quello prima ancora Abbiano fatto dei risultati maggiori Tu dici Vanguard No quello prima Non era Modern Warfare 1 Modern Warfare 1 È andato super bene No io parlo dell'altro Quello della guerra fredda Black Ops l'ultimo Il 4 Oh non lo so Può essere Guerra fredda Black Ops Black Ops 4 Vanguard Vanguard è quello che Andato veramente Cold War Cold War Cold War Sì scusami Cold Water Cold War Si confermo Vanguard non è andato bene No Vanguard Vanguard è andato male Assolutamente Modern Warfare è andato bene Per questo poi Modern Warfare 2 Sono andati Molto molto bene Sto ancora vedendo Ma a parte Sony Che ha tolto A parte Final Fantasy Sony cosa ha tolto Quanti giochi Allucinanti ragazzi Pensate a tutte le esclusive Che non sono prime parti Cioè è molto lineare La questione Se guardate tutti i giochi Che non sono prime parti Immediatamente Vi rendete conto Di tutti i giochi Che Sony ha tolto A Microsoft Sfruttando la sua posizione Di dominio Come è giusto che sia Poi perché giustamente Sony fa il suo gioco Sfrutta la posizione Di dominio Per cercare di Eliminare la concorrenza Vedevo prima uno scriveva Ma io non voglio Che vada in porto Perché quando uscirà Switch 2 Voglio i giochi Activision Blizzard Su Switch Amico mio Se compri Switch 2 Per i giochi Activision Blizzard Però non è proprio La strategia La migliore Non è proprio Un genio Totale Sinceramente Quindi Non lo so Non lo so Non lo so Non mi fa Non mi fa impazzire Quindi Boh Da questo punto di vista Non lo so Ne valuterei Ne discuterei In proposito Cioè nel senso Che oggi Vedendo quanto Ha lavorato Su Switch Activision Blizzard Faccio un po' Fatica a immaginarmi Uno scenario In cui Non va in porto Acquisizione Activision Blizzard Porta giochi Su Switch 2 Boh Non lo so Sinceramente Pier comunque Grazie Pier comunque Hanno detto Che se entro Viene a dire FTC Non trova il giudice Microsoft compra Activision Se ne sbatte Della CMA Non credo Che questa cosa Possa mai avvenire Amico mio Do Mad Dubito Molto molto forte Se non trova Il giudice La cosa Microsoft conquista Per me Finché non si dirime CMA Versus Cut Non l'acquista Per me Non per l'FTC No Per la CMA Ma l'FTC Ragazzi Ribadisco La sua influenza È pari allo zero assoluto Solo voi siete lì Sostenitori con le bandiere Viva FTC Che blocca l'acquisizione Quello non ha valore Quello che ha valore È la CMA Sicuramente la CMA Ad oggi È l'ostacolo E se il cut Per qualche motivo Dovesse dire No La decisione della CMA È valevole Punto È lì Come diceva l'altra volta Anche una commissione europea Quando abbiamo fatto Tutto il cortocircuito La questione salta Cioè c'è poco da fare L'idea che Di nuovo Microsoft esce dal mercato inglese O si inventa lo stratagemma Secondo cui Scompare Ma poi prende un distributore Distribui i giochi Cioè Lo dicevano l'altra volta Tutti Non è credibile È applicabile Specialmente se ti porti In casa Activision È fantascienza È fantascienza Non esci da lì Vende un botto in Inghilterra Vende molto di più Che non da noi A parte delle numeriche Perché in Inghilterra Sono di più No ma non è neanche Solo il valore di cose È proprio È impossibile immaginare Un mercato dove Microsoft Se ne va Non è credibile Immaginare che Microsoft Smetta di vendere Windows Office I server Tutta quella roba lì Da un mercato come quello inglese Che ribadiamo Non è l'Italia Che magari ce lo può pure Fa un pensierino Stiamo parlando Dell'Inghilterra Non esce dal mercato inglese Microsoft Quindi Come dicevano Nel cortocircuito Vi invito a rivedere Il cortocircuito Con i peggiori problemi audio Di sempre Se dovesse saltare Quella parte Se la CMA Non dovesse accettare Continua a reiterare Nel suo Non accettare l'acquisizione L'acquisizione salta Cioè Esiste Esiste un'eventualità folle In cui Activision Qualsiasi sede abbia Qualsiasi ragione sociale Abbia in Inghilterra Divenga una società A sé stante A cui ovviamente Vengono sottratte In qualche modo Le IP E praticamente ci sarebbe Un Activision Blizzard In UK Senza le proprietà intellettuali Di Activision Blizzard Mondo Perché non le può vendere Che magari fa Che ne so Cestini per il cibo O robe del genere Non ne ho idea Dicevo Non c'entra niente Questo Pierpaolo Mi diceva Il tipo Quello Che non sapevamo Se era socio Mi sono fatto raccontare Un po' di cose Sono arrivati a essere in soci In sedici Una volta in questo posto In sedici All'apertura Quando c'era anche Simone Poi ne hanno Ovviamente si sono scremati Da soli Sono rimasti Sono rimasti In cinque E poi? In cinque dove Sì però Il bicchiere d'osteria caldo In cinque Chiaramente qua non servono Granbini In cinque In cinque dove Dove però La maggioranza Guarda che non è male Questo La maggioranza Sia di teste Che di quote Non c'è Nessuna coppia Ha la maggioranza Cioè quindi Per avere la maggioranza Ti pesantemente Al di sotto Del 10% Sì Ha detto che la coppia No non sotto al 10% Del 20% Sì Hanno quote alternate Però praticamente La coppia Con la quota maggiore È al 49% E quindi Nessuno può decidere Quindi è sempre una maggioranza Se di teste Che di quote Che è buono Per andare d'accordo Perché poi due Almeno in tre Perché comunque Non è solo una maggioranza Di forza Di persone che hanno le quote Ma è una maggioranza Qualificata anche di persone Quindi I due La bozzano eventualmente E una delle cose Che mi aveva detto L'altro giorno È che non prendono Compleanni di bambini O robe del genere Feste della scuola Adesso c'è su Una festa Ho visto 30 bambini 30 bambini E fanno un bordello Cioè è un altro locale Andando su Vi senti che urlano E stanno impazzendo Ma quindi Secondo te Pier l'acquisizione salta Allora ribadisco Per l'ennesima volta Signor però Anche voi Cioè Allora Poi basta Allora A meno che Alessio Giornano vogliono raggiungere Allora Per Pierpa Paolo Personalmente L'acquisizione Va in porto In un modo O nell'altro E per me Il modo in cui va in porto È che Il CAT Che è sicuramente Più rappresentante Della politica inglese Farà ogni cosa Che è in suo possesso Per obbligare La CMA A riformulare Un'analisi Della decisione Questo è il mio pensiero Mentre l'FTC Proprio è completamente Ininfluente Quindi per me La cosa Andrà in porto Questo è uno Pierpaolo che fa una previsione Che può tranquillamente Essere sbagliata E potrebbe averci ragione Aligi Che invece Confida al 100% Che salterà Una previsione Uno dei due Ci indovina Poi Pierpaolo Vuole che l'acquisizione Vada in porto Assolutamente Sì che vuole Vada in porto Ma non perché A differenza vostro Il mondo Si divide in boxari Sonari Nintendari E PCisti Ma semplicemente perché Oggi il mercato Ha un problema Ovvero c'è Ci sono due società In particolare Una che gioca Proprio lo stesso Identico campionato D'Xbox Che ha una posizione Dominante E qualsiasi Società Con una posizione Dominante In un mercato Con pochi esponenti Con pochi attori Determina in modo Nevralgico Come dire Quanto quel mercato Sia a favore Dei consumatori Perché quando hai 15 attori Che combattono Mercato dei dentifrici Che poi in realtà Per quello si è andata Da centrale Ne sono rimasti comunque due Ma quando hai Un mercato Con tanti attori Che combattono Puoi avere Delle politiche Che cercano Di andare incontro I consumatori Quando è un mercato Dove C'è una società Che dopo un anno Un anno e mezzo Che fa uscire La sua console Dice sapete cosa Alzo il prezzo Della console Di 50 euro E nessuno dice A B O C E gli altri concorrenti Non toccano I propri prezzi Perché chiaramente C'è una posizione Dominante C'è Enrico Che la politica Di commercializzazione Di marketing For the players È fine Vuol dire Che fra due anni I giochi Potrebbero costare 90 euro E fra quattro anni Il playstation plus Potrebbe costare 15 euro Perché chiaramente Quando un'azienda Ha la leva prezzo A suo controllo Vuol dire Che quell'azienda Domina il mercato Fine Perché se Microsoft Avesse alzato Di 50 euro Già non vende in cazzo Ma se Microsoft Avesse alzato Di 50 euro La sua console Ma sapete Le pernacchie Le scoregge Che c'è stavano Ma cioè Proprio Veramente La metà Basta Ma persino Se Nintendo Avesse stato Ma vi ricordate Quando Meta Ha alzato Il prezzo Di Quest Cioè Quello che è stato Detto in giro Che si erano fumati L'impossibile Ma c'è mai stato Il precedente Dell'aumento Del prezzo Di una console Ma in vita mia Non l'ho mai visto Però è anche Un periodo strano Chiaramente Però Quando arrivi A fare quella Quella roba lì È perché Chiaramente Hai il dominio Del mercato Hai una posizione Dominante Sei in una posizione Di favore Quindi Certo che deve andare In porto L'acquisizione Perché così Il mercato Si sveglia Poi L'acquisizione Oh mio dio Non avrò più Call of Duty Ci sarà La megacorporazione Ci distruggerà tutti Oh mio dio Sei un boxallo di merda Queste sono Vostre valutazioni Che potete fare Più o meno Un mercato In cui Gli attori in gioco Hanno tutti Lo stesso potere È un mercato Che va a favore Del consumatore Un mercato Dove C'è uno Che ha Il 90% Del mercato E gli altri due Che o giocano Su un altro mercato Se piano il 10% Cioè c'è un 4 a 1 Contro Xbox Ragazzi È importante 4 a 1 Quella roba lì Si vedono i risultati Playstation Alza i prezzi Playstation Alza Alzata per primo I prezzi Dei giochi Cioè si vedono i risultati A voi piace un mondo così A me no No non solo L'FTC comunque Ha dei poteri Ha il potere di rompere le palle E ha il potere di rompere le palle Anche è exposed Quando e se Passata l'acquisizione Dovessero emergere Storture del mercato Perché effettivamente Microsoft diventa Questo colosso Allucinante Anche in ambito gaming Possono tranquillamente dire Sai una cosa Torniamo a romper gli coglioni Sai una cosa Non Ti è passata l'altra volta Adesso non ti passa più Devi scorporare Activision Blizzard Esatto Perché si possono fare Anche exposed Io vorrei dire Una cosa anche Molto più banale Cioè Questa cosa L'abbiamo già passata E l'abbiamo passata Ai tempi di Bethesda Ora È vero che Activision Si sommerebbe a Bethesda Però Dall'ultimo Direct Dallo showcase Che abbiamo visto Domenica Al di là di Starfield A me non è che sembra Che questo investimento No Stanno fruttuoso Stonk Capito Che sono schizzati Nell'iperuraneo Della finanza Quindi non lo so Io non so Che significa tutto ciò È per demerito di Xbox Non riesco a capire Quindi Puntiamo al monopolio Speriamo che Xbox E Nintendo Chiudano No Sta dicendo che La condizione In cui Microsoft Con il box Si trova È demerito di Xbox Certo ovvio Assolutamente sì Ovvio Infatti loro spendono i soldi Per migliorarsi La questione Che gli devi dare La possibilità Di ripieno Allora che vuol dire Se senato ciccioni Piatrante il culo Perché non puoi fare nulla No In palestra Se ti vuoi migliorare Il cazzo discorso È vero che Bethesda Vale meno Di Activision Perché quanto L'hanno comprata No vale 4 No parlava sempre Giordana È ovvio che la scala è diversa Parlava in termini Di rendimento Attuale No ma soprattutto Cioè io parlavo Di bolla Nel senso L'allarmismo Che è stato fatto Ai tempi È lo stesso Se lavora male Giusto ci sia un monopolio Madonna ragazzi Ma per fortuna Che il mondo Non funziona Come stanno dicendo voi Altrimenti esisterebbe Una società per settore Se è come dite voi Esisterebbe una società Per settore Il primo che fa più soldi Che alza le barriere E contro gli altri Hanno fatto peggio Cioè Il vostro mondo ideale È una società per settore Cioè solo uno Che fa la farina Solo uno Che fa il latte Perché gli altri Gli altri Se non sono stati bravi La prima volta Ha fatto la farina grossa Cioè Ha cambiato le mole Non gliele puoi vendere Le mole nuove Veramente non capito Un cazzo proprio Cioè Veramente vi piace Un mondo di merda Proprio Trovo stupefacente Questa roba qua Sì sì Il mondo Il vostro mondo ideale È un mondo di merda Questa cosa è Veramente è incredibile Leggervi Sarebbe impossibile Avere cyberpunk La mia domanda Di prima Su cyberpunk Game pass Non avrebbe senso Avere cyberpunk Sul game pass Con l'uscita Dei No Perché ancora Secondo te Il dlc Potrebbe vendere Il titolo originale Ha voglia Sarà vendere Poi ci sarà Sicuramente La game of the year edition Come la chiameranno Ha voglia Gliel'ha venduto L'anime Sì assolutamente Proprio senza dubbio Però l'anime È una roba Perché è andato A intercettare Un'altra audience Secondo me Il dlc Di base È qualcosa Per chi ha già il gioco E quindi A quel punto Gli dai già il gioco Ed è la formula Game pass Pierpaolo Perché È la formula In cui Il game pass Dimostra il meglio di sé Che è monetizzare Extra monetizzare Il prodotto Che Sta sulla piattaforma Ma il gioco Ma il cyberpunk Oggi non è un gioco Che ha dei problemi E ha necessità di vendere No però Non c'è quella necessità Sarebbe probabilmente Una mini riduzione Magari un anno prima Che esce The Witcher L'investimento di No adesso In un momento caldo Freca sega Ne a City Project Ne a Microsoft Però ti posso dire una cosa Dico solo questo Posso dire che City Project Non si è comportato Assolutamente bene Nei confronti degli utenti Cioè perché Dopo quella Mentiata Certo lo puoi dire No Ha messo pezze Si è messa al lavoro Per mettere le pezze Ma non ha Non ha assolutamente Extra compensato Un problema Che è stato Mastruoso Perché dovrebbe Extra compensare Perché Secondo me Che tipo di azienda Vuoi essere Quella che Te la metto in culo Poi ci metto una pezza O quella Te la metto in culo Scusa non volevo Mettertela in culo Non solo ti do la pezza Ma ti do anche Questa cosa qua Io ho giocato Cyber Perché non regalare cose Perché te l'ho messa in culo Per Paolo Ma questa la do convinzione Questo è il tuo pensiero Sai io cosa ho fatto? Io ho aspettato Che il gioco uscisse Ma che cazzo c'entra Però è stata la scelta tua Il gioco in The One Era sullo scaffale Sì Quindi Io ho aspettato 20 mesi Però sti cazzi Giordana Cioè hai fatto una scelta Che non è quella Di chi lo va a comprare Il The One Cioè hai fatto una scelta Hai avuto un'esperienza Meravigliosa Non lo metto in dubbio Ma Gente l'ha comprato In The One Gli ha dato prezzo pieno In The One Non ha aspettato Perché gli hanno dato Un prodotto che gli hanno detto È finito E non era finito Ma Secondo voi in chat Il fatto che esiste Il tier di Playstation Extra Che vi regala i giochi Quando vi regala Vi dà i giochi Quando siete abbonati Ma secondo voi Da cosa nasce? Dal dominio In contrastato di Playstation O per il fatto Che c'è un concorrente Che ha fatto vedere Un altro modo Di accedere i giochi Ma secondo voi La Playstation Collezione Che avete riscattato Quando avete preso Playstation 5 Da cosa nasce? Da il dominio Playstation O perché ha visto Un concorrente Che rompe i coglioni Se non ci fosse stato Microsoft Se ci fosse stato Solo Nintendo Secondo voi Playstation Avrebbe fatto il tier In cui vi regala i giochi Avrebbe fatto Playstation Collezione Oltretutto La Collection Non esiste più Avrebbe alzato Solo di 10 euro I giochi Avrebbe alzato Solo di 50 euro La console Ma veramente voi avete La vostra Veramente siete Tipo i bambini Che non sanno Di che stanno parlando Ti confermi che la Collection Non esiste più Non esiste più L'hanno spenta Cioè il fatto che Comunque davi qualcosa Inizialmente Non la dai più Cioè ragazzi Se fosse stato un competitor Non avrebbero tirato via Quando si sono accordi Che non serviva L'hanno spenta Cioè Proprio A voi piace Spendere 80 euro a gioco Cioè io mi immagino Quei cartelloni Sotto l'ufficio Sony In cui chiedete Di alzare di altri 10 euro I giochi Pur di non far vincere Microsoft Cioè Avete raggiunto Una Una componente Di rincoglionimento globale Che non dovreste avere Perché voi dovreste sperare Che i prezzi giochi Scendano Non che salgono I prezzi della console Scendano Non che salgano Che Ogni mese Sony Si senta costretta A regalarvi più giochi Non sempre meno Invece voi festeggiate Davanti a queste ipotesi Davanti all'ipotesi Che il playstation Collezione viene tolta Davanti all'ipotesi Che la console Sale di altri 50 euro Cioè voi godete Di questa roba qui Poi capisco Perché c'è anche Chi si fa frustare Mentre fa sesso O chi si fa schiacciare I coglioni Con i tacchi Però Un mercato sano Non va in quella direzione Va in un'altra direzione Mi sono padellata Quando Elon Musk si è svegliato Una mattina E ha scelto di far scendere I prezzi Delle Tesla L'ha fatto Perché ha cominciato A vedere che Volkswagen In Europa Sta prendendo piede Se fosse l'unica società Che fa macchine elettriche Nel mondo E il mondo Andasse in direzione Totale delle macchine elettriche Aumenterebbe il prezzo Non lo farebbe scendere Perché tanto È l'unico che ne fa Quindi davvero Ogni tanto Dovreste un po' Accendere il cervello E soprattutto Non fate girare Il cazzo Zacco Che vi banna Signori Zacco Hammerban Hammerban Io sono contro il ban Lo sai No no Per me Le chat dovrebbe essere Una cloaca di cazzo No no Perché Perché la libertà di espressione Non on my watch Zacco Hammerban Dopodiché Va bene così Se siete felici Siamo tutti contentissimi Cuoricini grandissimi Per Zacco È vero Io sono stato bannato Nella mia vita Ho bannato solo un tizio Che si chiama Salottino Video Da Recchioni Da Recchioni Sei stato bannato Bravo L'unico ban Della mia vita Detto questo Del beneficio del dubbio Ma non mi sento necessario Del beneficio del dubbio Esprimete la vostra idea Io la leggo E la commento Come voi Insultate Per ogni cosa che dico Io vedo quello che scrivete Lo leggo E lo commento Perché ti sei fatto bannare Da Recchioni Che cazzo hai detto Per faggiare Cazzo a Recchioni Da farti bannare Ma ha malinterpretato Una mia riflessione Malinterpretato Tipo quel Ora tocca a te Di Cipollino Su Twitter Tipo non capisci un cazzo Però l'ha malinterpretata Poi il fatto Che ci sia un Come dire Una possibilità futura Che Microsoft Approfitti Della sua posizione Se l'acquisizione va bene Se diventa Se prende l'ottanta per cento Del mercato Eccetera eccetera E Possa approfittare Di quella situazione Per cercare Di distruggere I concorrenti Prima di tutto È purtroppo Connaturato Col mercato In seconda battuta Semplicemente Si invertirebbero le parti Non è che diventa Un mondo peggiore Perché ci sta Microsoft Invece che Sony Allora è peggiore Il mondo Ma la speranza È che Esattamente come oggi Gli organi Preposti Per evitare che ci siano Dei monopoli Nei settori Si stanno muovendo Succede lo stesso Il giorno in cui Microsoft Ha il 90% 95% Del settore gaming Di intrattenimento La speranza è che Gli organi Preposti Dicano Microsoft Devi sganciare Perché hai creato Delle barriere All'ingresso Talmente alte Che non c'è più Concorrenza Non ci sono Novi attori Non ne possono Nascere altri E allora toglilo Io oggi trovo Alessio lo sa L'ho detto mille volte Io oggi trovo Imbarazzante Che meta Abbia Facebook Instagram E Whatsapp Non riesco a comprendere Minimamente Come non si intervenga Per smontare Quel dominio Lo trovo Folle E L'avrei trovato Ancora più folle Se davvero in America Fosse stato bannato TikTok Che è l'unico concorrente Nato Con tutte le problematiche Del made in China Ma è l'unico Che sta rompendo Il cazzo A Instagram E ha obbligato Meta A creare Tutta una serie Di contro dinamiche Alzare i soldi Per i creator Inventarsi altre robe Ma oggi Trovo folle Quel tipo di dominio Perché oggi Non c'è un social Che non sia di meta E questa non è una cosa normale Onestamente TikTok È il più grande Probabilmente Non è Facebook Ancora Ma perché per fortuna Che c'è TikTok Perché se non c'era neanche TikTok C'è quel tipo di dominio È una follia Pierpaolo greco Virgolettato Per fortuna Sono arrivati i cinesi Ma guarda Lì è un valore Così come Trovo estremamente Visionario E sensato Che L'America Si sia sbagliato Svegliata E purtroppo Non l'Europa Perché noi facciamo Veramente la merda E abbia fatto Piani A 5-10 anni Per Spostare tutte le fonderie Di produzione dei chip In America A togliere dalla Cina Che oggi la Cina Ha un monopolio Che ha anche risvolto I politici importantissimi Su tutta la produzione Dei chip Che comandano Qualsiasi cosa Che c'è al mondo Quella roba lì Ha risvolti gravissimi Anche da un punto di vista Politico Sicurezza nazionale Cioè Per fortuna Che almeno L'America Si è svegliata E ha detto Oh Mettiamo i miliardi Perché dobbiamo Cominciare a costruire Le fonderie Intel Apple Altro che TSMC AMD Le dobbiamo cominciare A costruire In America Non è un caso Cioè non è un caso Che ci sia quel dibattito Che la Cina A brevissimo Conquisterà Taiwan Non è un caso Quella roba lì Perché non fai una diretta Su Instagram Per i cazzi tuoi Vabbè basta Scusami Chiacchierate Infatti andavo fuori A fumare una bai No vabbè Adesso chiacchierate No ti faccio finire No finito Però interviene anche te Perché attenti Sembra che non parlate Perché se sto zitto State in silenzio Cioè capito E quindi E se ne va Quindi E cioè Portando via a piatto Come un bravo cameriere Vado a piangere La mia camerina Che non c'è Cioè tu Trovi che il Come si dice Che il problema Più grande Sia Cioè per quanto riguarda I social network E le app Di messaggistica Io no Bravo No ho detto no No Solo del caffè Dicevo Tu trovi Che il problema Più Rilevante Sulle app Di messaggistica E social Sia Appunto Il monopolio Per me è incredibile Che non intervengano Cioè secondo me Avere la stessa società Che ha facebook Instagram E whatsapp È un accentramento Molto importante Perché a parte Esiste un servizio Di messaggistica Concorrente a whatsapp Telegram Ma Cioè Il problema è che Whatsapp è come meta Quando superi 25 I 30 anni È whatsapp Cioè non è telegram Cioè È come facebook E in più c'è pure Instagram Cioè comunque È un accentramento Forte Per me deve essere Tre società diverse Comunque concorrono Sulla stessa Gestione dell'utenza A avere Whatsapp Instagram E facebook Cioè non mi passi Troppo il termine Su cui meta Marcia Che facebook È per gli over 50 Instagram È per 30-50 Whatsapp C'è telegram Cioè non è un Per me non è una Una dialettica Che passa Per me è sbagliato Però il fatto Che li rendano Cioè il fatto Che siano così Accentrate Non li rende Da un certo punto Di vista Costantemente Sotto attenzione Cioè più attenzionate Perché a me viene in mente In chat Scrivevano Telegram Non lo usa Tra virgolette Nessuno Per esempio Per come funziona Telegram Telegram è uno Di quei posti Che a differenza Di Whatsapp Non è controllabile Non è controllabile E soprattutto Lì dilaga Una quantità Di Chiamiamola Tra mille virgolette Criminalità Informatica Entro cui La legislatura Americana Europea Nazionale Non si riesce A muovere Cioè se Una mattina Un cazzo Di psicopatico In chat Si sveglia E decide Di fare Un gruppo In cui Ci butta Dentro le mie Foto E tutti Mi insultano Su telegram Sei fottuta Su telegram Non solo sei fottuta Ma il tempo Ma il tempo Che la gente Cioè che magari Uno della chat Se ne accorge Mi fa sapere La cosa Io denuncio La polizia Arriva la polizia Quel server È sparito E non lascia Traccia Allora Da questo punto di vista Invece Whatsapp È molto più controllato Sì però È una Allora È una visione Che ci sta Ma è comunque Una come dire È un cavillo Che diciamo È un elemento Positivo Di un problema E voler vedere Il bicchiere a mezzo pieno È una situazione Bravissima Certo È come il discorso Di TikTok Io Pierpaolo Mi sento sicuramente Più sicuro Usare Instagram Di TikTok Perché sono certo Che TikTok Qualcosa in Cina La manda Cioè non è un caso Che l'America Dica attenzione a questa Attenzione a questa Attenzione a quell'altra Quindi dico È quel solito discorso Che Travaglio Odia E utilizza spesso Di dire Perché preferite Farvi controllare Dagli americani Invece che dai cinesi Perché no Travaglio Porta sempre la dialettica Del Eh ma Anche gli americani Vi controllano E ci hanno fatto Mobbing Influenza Eccetera eccetera Per 40 anni Fa cagare quanto la Cina Io Che ho una visione Sicuramente Traviata Atlantista Tutte le soglie stronzate Mi sento più Tranquillo Più 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 Blocchi la Cina Però Nonostante Vi siate divertiti Per 5-6 giorni Andarmi dalla comunista Io sono estremamente critica Cioè per me la Cina dovrebbe Allora Volete vivere così Perfetto Vi costruiamo un muro attorno Vivete nella vostra No? Così E non rompete il cazzo a nessuno Per me a quella gente Andrebbe data L'embargo su tutto È complessa Su tutto Poi chiaramente Subentra tutto quel discorso Perché tanto so già Che sono pieni di 5 steppi Oggi siamo pieni sui chat Di pentastellati Di travagliani Eccetera eccetera Del Eh ma perché invece gli americani C'hanno le basi in Italia Eh ma perché loro non hanno fatto La guerra in Afghanistan Per il petrolio Tutto chiaramente veritiero E analizzabile di volta in volta Ma lo ribadisco L'America che ha le basi in Italia O l'America che si è mosse in Afghanistan Eccetera eccetera Noi siamo in guerra Noi stiamo discutendo È dal mio punto di vista Più tollerabile Rispetto ai movimenti Che fa la Cina Perché io sono certo Che se la Cina Avesse le basi in Italia Sarebbe un po' diverso Dal posizionamento Delle basi invece americane È abbastanza diverso Dal tipo di influenza Che applicherebbero I cinesi sul territorio Rispetto agli americani Sul territorio Parecchio diverso Ci metto dentro anche Un aspetto culturale Anche certo Cioè non voglio Non voglio buttarla Sul Sullo spicciolo Però È molto più facile Ritrovarsi Non dico Ma che bicchiere è? Ma che te lo devo versare Ogni due minuti? La metà Certo la metà Ma ogni due minuti Sto cazzo Bevi l'ubriacati Non rompere i coglioni Chiudiamo con il tier Di Xbox e del forward Ma stiamo parlando No nessun tier Non ce ne frega un cazzo Stiamo chiacchierando Io e Giordana O unisci o ti attacchi Vai Gio No dicevo che Chiaramente Il discorso Ah ma allora ti fai guardare Dai Ti fai guardare Dagli americani Però è anche vero Che comunque gli americani Diciamo che sono filo occidentali Cioè sono un tipo di cultura Che puoi comprendere Mentre invece Non dico che i cinesi Non puoi capirli Però chiaramente Le popolazioni asiatiche Hanno un modo Come i giapponesi Cioè loro ragionano Per generazioni Loro non guardano A dieci anni A cinque anni Loro guardano A cinquant'anni A ottant'anni È un modo Di pianificare La politica L'economia La strategia fiscale Completamente diversa Dalla nostra Cioè è difficile Io adoro Esatto Sono d'accordissimo A te adoro Prima di tutto Quel dibattito su Grandissimo Non ho letto Chi è in chat Che lo diceva Quella cosa fantastica Forse non vi ricordate Quella roba incredibile Delle finte stazioni Di polizia In Olanda In Italia Che erano i copi Dei cinesi Che controllavano Ne sorvegliavano Numero uno In seconda battuta Come diceva Non mi ricordo Chi qua in mezzo Ho visto passare Super 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 interessante Aspettate Perché quella cosa Era incredibile Aspettate Che quella L'avevo vista Che era bellissima Sono stronzati In Africa La Cina Tende ad avere Una politica Di soft power Di meno intervento Amico mio Mi sa che tu Non sei informato La Cina Si sta muovendo Ormai da quasi 25-30 anni In Africa Corrompendo Qualsiasi governo E mantenendo Uno stato Di guerriglia urbana Elevatissimo Si assume la responsabilità Di quello che stanno dicendo Io sono pro-governo cinese Guerriglia Urbana E Come dire Stato militare Perché la Cina Che è molto più intelligente Dell'Occidente Dell'America E tutto il resto Già 30 anni fa Avevano studiato Che La guerra successiva La guerra La gestione E il controllo successivo Sarebbe stato Sulle terre rare E il posto migliore Dove ci sono terre rare Al di fuori Del territorio cinese Le terre rare Sono i minerali Quelli per i microchip Esattamente È l'Africa E loro sono 25-30 anni Che stanno facendo La stessa roba Che purtroppo Facevamo noi europei Noi americani Quando contava l'oro I diamanti E le pietre preziose Si chiama Il coltan E quello di microchip Non so Quelle rare Che noi 40-50 anni fa Facevamo in tutti i modi Per tenere dei governi Di merda Fantoce E tutto il resto In Africa Non farli sviluppare Perché volevamo Avere i prezzi Dei diamanti Dei metalli preziosi Eccetera eccetera I più basi I più calmirati possibili Con governi collusi Semplicemente La cosa ha passata di mano E la Cina 30 anni fa Iniziata a farlo Per gestire le terre rare Perché sono stati Molto più intelligenti Di noi A capire che Le terre rare Sarebbero stati I metalli preziosi Del futuro Molto semplicemente Se poi voi siete convintissimi Che in Africa I cinesi siano lì A costruire le scuole Gli ospedali Ad acculturare la gente A fare le borse di studio A migliorare le infrastrutture A costruire le strade E tutto il resto A me va benissimo Io sono contento per voi Però non funziona così Detto questa cosa qui Sì vabbè Terre rare Scusate Si chiamano terre rare Certo non perché sono Grazie Purtroppo non l'ho scelta io La definizione Si chiamano terre rare Non perché non si trovano Ma perché ogni volta Che le devi usare Distruggi l'ecosistema Che c'è intorno Il concetto cambia poco Cioè se le devi Se le devi estrarre In quantità numerose O spendi miliardi Di miliardi Di miliardi Di miliardi O distruggi l'ecosistema Che c'è intorno Poi non l'ho scelta io Che si chiamano Che si chiamano terre rare Non è una mia scelta Scusate Perché tu sei filo cinese Non sono filo cinese Prendevo una posizione diversa Sicuramente Non mi metto a video Con qualcosa di registrato A dire che il governo cinese Ah sì sì Perché lui siccome sa Che fra poco La Cina entra in Italia E ti soggiora Qualsiasi dissidente Lui è servo veramente Del potere Lui è il massimo Servo del potere Esatto Servo del potere Io sposo la bandiera Che si alza ogni giorno Sì sì The man in the high castle Cioè fai veramente schifo A seconda della bandiera Che si alza Fai veramente schifo Io celebro Imparo l'inno Madonna Ci sono i nostri partigiani Che si stanno rivoltando Nella tomba E no volevo sentirti adesso Solamente su questa cosa Visto che continua Ad andare avanti il dibattito Perché l'ho visto ripassare Se la Cina oggi Costruisce i migliori Microchip Più in generale Cioè Se è arrivata un'industria Che ha demolito la concorrenza Se lo merita E quindi è giusto Che prenda il monopolio Perché le economie Sono diverse nel mondo Cioè gli stili di vita Sono diversi nel mondo No leva la Cina Facciamolo perché Con la Cina è troppo facile Il dibattito Non paghi la forza lavoro No in generale Molti continuano a dire Eh ma se quella è arrivata A quella posizione Se lo merita No ma è vero Quindi Non è il caso della Cina Perché nel caso della Cina Il dumping dei prezzi Dipende Cioè Da una forza lavoro Sottopagata Sottopagata Condizioni di lavoro Che per noi sono inaccettabili Infatti per me Quello che c'è di inaccettabile Che dovrebbero esistere I dazzi Cioè paradossalmente Quello che fece Trump All'epoca Che sembrava Surreale Esatto Era giusto Perché comunque Da quel punto di vista Fu una scelta molto coraggiosa Perché molti più 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 Molti Io sono un liberista convinto Ma di fronte al fatto Che l'ipercompetizione Non dipende appunto Da una ingegnerizzazione Da un'eccellenza Di ingegnerizzazione Di studio O roba del genere Ma semplicemente Dal fatto che la forza Lavora ti costa meno E che della gente Sta di merda Se tu metti I dazzi Riesci in qualche modo A compensare Questo squilibrio Che è a livello Di economia globale Ma assolutamente C'è stato Che ne so Il fenomeno Nokia All'epoca della telefonia Che era Un'eccellenza internazionale Era un insetto Un'eccellenza Un'eccellenza internazionale Che competeva Nel mercato Secondo le regole A cui noi siamo abituati Che abbiamo accettato A livello internazionale Quindi No Non benvenga Il modo di fare della Cina E anzi Rompergli il cazzo Il più possibile Per rendere anticompetitivi I prodotti Potrebbe fare in modo Che si accendessero Delle lampadine Ma La questione Che diceva lei Per esempio Del fatto che Effettivamente Essendo governi Stabili Nel senso che sono Pseudo dittature Quello possiamo dire Pseudo Mi piace quello pseudo Prima Almeno fanno finta Di avere delle elezioni Fa sì che effettivamente Loro possano programmare A 20 30 anni 50 anni Ma non per una questione Di mentalità Generazionale Ma proprio perché Sanno che saranno lì Dopo 30 40 anni Il problema Delle nostre democrazie Che lo span dei tempi È estremamente ridotto Se vuoi Solleticare La pancia Degli elettori Devi fare Scelte a brevissimo termine Che danno Regalie A destra e sinistra Io ho necessità Di farti Leggete questo messaggio Ti prego Di il risk breaker Perché a me fanno impazzire Che ci siano persone Ma magari hanno ragione Esatto Senti questo Putin viene eletto A plebiscito Draghi Renzi E molti governi In Italia Degli ultimi 15 anni Mai eletti Hanno preso Delle misure Dettatoriali Soprattutto in pandemia Cosa che la Russia Non ha fatto Ti prego Ti scongiuro Perché questa Penso è una persona Che ha scritto Strobba Però ad esempio La Russia Cosa che i nostri governi Non fanno Allora Lo fa la Cina E lo fa la Russia E gli ha ragione In modo diverso Una cosa che ad esempio Noi non facciamo Fortunatamente È Avvelenare i competitor Durante le elezioni No E fare No Così Cosa è a caso Anche Però è fare Cyber warfare Pagata dal governo In Russia Ma io sono convinto Che l'America e l'Europa Facciano Sì anche l'America L'Europa Se non ha le competenze Non arriviamo a raccontarci Le favole Sì ma non pagate dal governo Quante volte Si sono saltati fuori Wikileaks e compagnia Dove l'America Aveva le telefonate Della Merkel Cioè De che parliamo Ma però quello fa parte Sì però Tendenzialmente In Europa e in America Funziona così Se tu sei un bravo Paperino acherino Ok E ti beccano Molto spesso Il giro che tu fai È finire dentro Una multinazionale Non vai Pagato per il governo A fare cyber warfare In Cina fanno così In Russia In Russia invece Si appoggiano a gruppi criminali Però leviamo la cyber warfare Io voglio che rispondi A quella cosa invece Sul discorso di uno Che dice che Putin Non è stato eletto A plebiscito Già un posto Dove ti eleggono A plebiscito C'è un problema Esatto perché Normalmente la politica È divisiva Lo vedi in tutti i paesi O dove fanno Il referendum Su annettiamo la Crimea Con la gente Con i fucili Fuori dalle cabine elettorali Non esistono i plebisciti Cioè possiamo dire Che Putin non è Sicuramente può anche Aver acquisito Uno status di Governatore forte Che ha interesse Che crede nella madre Russia Compagnia Bella Ma il plebiscito È sempre indicatore Di qualcosa Che non funziona Ma poi che ne vuoi dire Appunto di concorrenti politici Di Putin Esatto Discutiamo di un dialogo Di un dibattito politico Di Russia E poi si mette in carico Di bastoni Delle scelte di dittatoriali Imposte in una fase Di emergenza Cioè ma io Vai a chiederglielo A quelli che si sono bevuti Il tè col Polonio No ma se io fossi Se io fossi stato Che ne so Al governo In un periodo di pandemia Su qualcosa di sconosciuto O roba del genere Assolutamente avrei preso Se previsto Dalla Costituzione Avrei preso decisioni Il più possibile Cioè Univoche Cioè non puoi cominciare A discutere ogni cosa Quando sei in emergenza E da quel punto di vista Sono contento Se gli strumenti Che abbiamo a disposizione In democrazia Prevedono anche momenti In cui Però non ti frega Il cazzo delle risposte Ti sta sentendo Finisci No no basta Lui dice Invece Draghi Lo abbiamo eletto noi Questo è Però c'è La risposta è veramente banale Che si è sentita Vai Settecentomila volte La democrazia La repubblica parlamentare Che abbiamo noi Prevede il fatto Che ad eleggere Il presidente del consiglio Sia al Parlamento Il Parlamento E quindi Non è una dittatura Esatto A parte così Lo hanno scritto Quelli lì che Sono usciti Dalla dittatura Esatto Vota una maggioranza Che vuole Una repubblica presidenziale Esatto Che voti Vai avanti a votare Meloni E Cinque Stelle Che vogliono la repubblica presidenziale Aspetta Non c'è niente di male A votare direttamente Assolutamente Guarda in America Come fanno in America Esatto Non c'è niente di male Però non c'è niente di illegale Niente di dittatoriale Per scegliere Draghi Esatto Perché così funziona Ti svegliamo un segreto Non so se hai fatto 18 anni oggi E quindi dici Ah ma prima non sapevo come si votava Cioè Fa parte del Del nostro funzionamento Del nostro governo In Italia c'è il presidente della repubblica Sceglie la persona Basta E dopodiché la presenta al Parlamento E dice Tu hai il mandato di creare il governo Il Parlamento decide Se gli dà la fiducia Punto Tulka Sinciate dice Voglio il sindaco d'Italia Cioè Purtroppo funziona così in Italia Il fatto che voi diciate Che Draghi sia una dittatura E perché Sentite quello che dicono Purtroppo Quelli che al momento Sono al governo C'è un problema Perché non è una dittatura E come funziona L'elezione in Italia Da sempre però La Meloni E temo che I vostri genitori Votavano la buonanima Del nostro Cavaliere Ma io penso A tutti quelli Che sono rimasti delusi La Meloni Perché io non ho mai visto Una Un cambio di Completo Paradigma E' partita da Neanche i 5 Stelle E' partita Esatto E' peggio dei 5 Stelle E' partita dall'essere La più fervida Sostenutrice dell'anti-europeismo Dell'anti-Draghi Ed è Ha dato continuità Tutto quello che poteva dare Continuità Se non era la Meloni Ma era Draghi a fare Tutto quello che aveva fatto La Meloni Era credibile Era credibile Potevi dire tranquillamente L'aveva fatto Draghi Tutto quello che aveva fatto La Meloni al governo Il 100% A parte due mutati Qui e là Perché rispetto a Draghi Fa delle cagate Cioè Le cagate Capivi subito Ciao Olivia Grazie per il raid Potrebbe essere Come si chiamava Quel ministro Che mi ha messo Putin Per fare Quello perché Perché non poteva farsi eleggere In Russia Il mandato presidenziale Penso che potesse essere coperto Per due volte Dopodiché lo dovevi interrompere Aveva preso Il decreto rave Aveva Medved Che è quello che si chiamasse Non mi ricordo Che comunque Lo mise a presidente Del consiglio Medvedev Medvedev Lo mise a presidente Del consiglio In fase transitoria In modo che potesse interrompere La kill streak Per poi tornare Dopo al governo E poi mi pare Mi pare che per essere rieletto Abbia dovuto Cambiare la legislazione Esatto Quella È dittatura È raccontata il cazzo Quella si chiama dittatura Quella è dittatura Cioè È proprio un passo sotto All'accambio con i fucili spianati Con l'esercito per la stanza Ma poi È il passo prima Io ragazzi Lo dico sempre In questo momento Se a voi piace Quella forma lì Guardate che potete andare in Russia Io credo che vi diano la cittadinanza Esatto Cioè se voi siete fervidi Sostenitori di quel modo Di fare governo Del regime Di Putin come uomo forte Di quella roba lì Secondo me oggi Se andate in Russia E chiedete la cittadinanza Ve la dando Quindi che cazzo ci fate in Italia Cioè andate lì Perché secondo me Vi danno la cittadinanza Se vi piace quel governo lì Vi danno la cittadinanza Ci sono anche posti liberi da oligarchi Esatto Cioè secondo me Potete andarci senza problemi Perché secondo me Non vi dicono Anzi vi accolgono A braccia aperte Quindi non si capisce Perché state qua Io questa cosa Non la riesco a comprendere Allora io posso capire Un certo tipo di Di tubanze Di Timori Cioè Anch'io quando ci sono Un certo tipo di Discorsi Specialmente per quanto riguarda Tutta la parte Dei diritti Ad esempio Sull'aborto Diritti che riguardano Principalmente Diritti femminili Ok Anch'io Anch'io ogni tanto No anch'io ogni tanto Ho quel momento Un po' di Panichino Quando sento parlare A un certo tipo di Esponenti politici Che dico Ok si comincia così Guarda in America Guarda in America Si comincia così E passa L'anti-abortismo Inizi così E diventa I racconti dell'ancella E i racconti dell'ancella Non è che è così Cioè sono partiti Da Le donne non possono più Avere un conto corrente Sì Però in democrazia Allo stato attuale Io non vedo nessun tipo di pericolo Perché il dibattito è alto Comunque i diritti acquisiti Esatto Sono allo stato attuale acquisiti Però posso Bisogna stare sempre all'erta Molto molto all'erta Sempre all'erta Esatto Cioè bisogna Bisogna stare all'erta E bisogna far sentire Cioè bisogna fare opposizione Moriresti Moriresti per i diritti Per Paolo Madonna Sì Dipende dal livello dei diritti Sicuramente per esempio No aspetta Sui diritti questi qua Te la metto peggio Te la metto peggio Dell'aborto del coso Probabilmente sì Morirei Esatto Te la metto peggio Esatto Non so se Probabilmente mi hai già risposto Un diritto che non Diritti che non Di cui tu non privilegi Di cui tu non posso godere Esatto Sì sì Sui diritti della libertà Di utilizzare il mio corpo Come voglio Probabilmente morirei Anche per te Quindi l'aborto Cambiare sesso Amare chi mi pare L'eutanasia Però non sei morto Per l'eutanasia che non abbiamo Cioè non ti vedo in piazza Ma perché non c'è neanche un dibattito E no Però è che non c'è il dibattito Ma se ci fosse il dibattito Io mi schiererei Io ci guardo sempre Quando voto Comunque una delle varie cose Sì però Peccato che poi tanto Quando arrivano eletti Non va a finire mai il dibattito Probabilmente per quelli morirei Sì sì Per quelli morirei Molto più che per No io morirei Le alleanze No io morirei per libertà fondamentali Cioè tipo veramente La libertà del mio corpo Di usare il mio corpo Come cazzo voglio Per me quella è la massima Libertà fondamentale Esatto però per me Mi posso voler suicidare C'è una componente di superfluo Beh perché Se voglio cambiare sesso Perché è superfluo No perché per me L'aborto deve essere un diritto Perché cambio sesso no Ma non è un diritto fondamentale Cioè nel senso che puoi Cosa vuol dire Per me è un diritto fondamentale Per me deve essere Un diritto fondamentale Ci sono nell'ONU I diritti fondamentali dell'umanità Che sono parte Del grande sistema La salute La medicina Esatto Intendi la medicina C'è uno zoppolo duro Per i quali morirei Io però Dopodiché Cioè dei due Dei due Moriresti per l'eutanasia No dei due Lavorerei sotto banco Per Cioè mi presterei tranquillamente Sotto banco A rischio di illegalità Perché le persone Possano abortire Ma probabilmente Non morirei Per l'aborto Non morirei Non andrei in piatta Cioè se domani Togliessero l'aborto Non mi farei sparare addosso Io sì Io sì Io pure No perché ci sono tanti modi Ci sono tanti Così come se domani Rendessero illegale Così come se domani Rendessero illegale Il cambio sesso Io scenderei in piazza Ma in piazza Sì ma morire Sì probabilmente andrei a stare in piazza Sì Aspetta che ti dicono Domani facciamo l'esecuzione Se non a Biuri Per usare il mio corpo come voglio Preferisco morire Più che non poterlo usare come voglio Sì A quel punto a che serve Lo usi comunque come vuoi Se non hai in piano una transizione Ma non c'entra niente Comunque pensare Che ci siano persone Che non possono usare liberamente Il proprio corpo Perché lo determina il governo Sì probabilmente Ma come la questione Ma come la questione Della maternità A me non frega un cazzo Di diventare madre Non pianifico di diventare madre Se un giorno dicessero No guardate Adesso rivoluzioniamo Le leggi sulla maternità Retribuita Ma di che cazzo stiamo parlando Non ne usufruisco No è chiaro però È chiaro però ripeto C'è una differenza per me Tra morire per qualcosa E combattere per qualcosa Del cosa moriresti? No per l'ognito Diritti fondamentali Tipo? Libertà di pensiero Di parola E libertà di usare Il proprio corpo Come ti pare Non è una libertà fondamentale Non puoi abortire Se rimani autodeterminazione Non morirei per l'aborto Ma l'aborto è autodeterminazione Però io non ci morire Se vuoi suicidarti Non puoi farlo Che è impossibile applicare Com'è possibile? Se hai allettato E vuoi morire Perché l'unica cosa È battere gli occhi E vuoi morire Ma lo Stato dice Non puoi farlo Ma moriresti Per poter essere libero Già non puoi farlo in Italia Non puoi Esatto non lo puoi fare Non sto morendo Ma potresti morire Ti ammazzeresti per quello Non lo sto facendo Vuol dire che non lo faccio Ah quindi non ti fai con cazzo Ma neanche a te Sei vivo Perché non c'è un dibattito Non c'è un dibattito Greta Tumberi È andata davanti al coso Con il cartello È un caso È in giro Tumberi Però se tu vuoi E infatti a valore zero Purtroppo ha un valore Gero Purtroppo devo lavorare Io sicuramente Se avessi un amico Che si vuole suicidare Lo porterai in Svizzera A 100% E se mi fermassero E mi mettessero in galera Andrei in galera E poi se ti dicono Perfetto A più o a più Ti sparo Ti fai sparare Per un amico Senza ombra di dubbio No perché probabilmente Manco glielo cambi Ti fai solo sparare Ho capito Ma funziona così No invece ci sono Delle robe Cioè pensa Tu sei solo Che muovi dietro le file No secondo me Ti direi cosa fare Per cercare di cambiare Il mondo E che voglio essere realista Secondo me c'è un grado C'è un panel Di preferenze Solo se sei dietro Le schie Solo se sei dietro La schivagnate Tu sei il colonnello O non muoio per niente Sei il generale Dietro la schivania Andate Armatevi E combattete Non hai capito Tu daresti le armi Io No io prendo la fanfara Per ogni bandiera Che si alza Devo solo imparare note Veramente È solo una questione Di spartito Vabbè comunque Detto questa cosa qui A posto Confermiamo che si dice Tumberi esattamente Greta Tumberi E Alessio sale Sul carro del vincitore Perché Alessio Non è mai sceso Riesce a saltare Da un carro all'altro È come a Call of Duty Sul carro del vincitore Vivi sul carro del vincitore Confermo E Perché Fammi vedere Stai dicendo cazzate Hai visto Poi è bellissima La nostra chat Se la pensi diversamente Sei un coglione Dici cazzate Questa è la cosa migliore Di tutti quanti Ragazzi Ma infatti dovreste andare In Russia voi Così siete sicuri Che nessuno può parlare A parte voi Questa è la cosa Più bella di tutti Allora Alessio Pavido Vermilinguo sciagurato Vermilinguo Vermilinguo sciagurato Ti piace Come è il personaggio Di Elezione degli Anelli Vermilinguo Non era quello Sul trono spento Quello che sussurrava Al re di Rohan Mi sembra Ah bravo Il consigliere Del re di Rohan Era Vermilinguo Bravissima Che l'aveva Atrofizzato Sì Bravo Mi piace questa cosa qui Theo 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 Denner Alessio come Un laborator Bravissima Joe Fetch Alla grande Se la popolazione Votasse democraticamente Contro l'aborto Con un referendum Quella prendereste Io lo accetterei Alla grande No io scendo In piazza Rivaldo tutto Aspetta Aspetta Accetterei E combatterei Nei margini Della legalità Esatto Probabilmente accetterei Di vivere in un paese Di merda Cioè non vado In Parlamento Con un mitra No quello Quello mai No perché Perché se l'ha scelto il referendum Perché devi andare in Parlamento Cioè se il popolo Vota Perché devi andare in Parlamento Con un mitra Se lo ha votato il popolo Continui a lavorare Piangerei Piangerei Del pensiero Di vivere in un paese Più Ancora più Mentecato Di quello che già Mi immagino sia Ma non è che andrei Al Parlamento E che non vuol dire Accettarlo Ma semplicemente Riconoscerlo Come un'espressione Del cazzo di sistema Bravo Camo Esattamente Bravissimo Bravissimo Pierre Cambio paese L'Italia la pensa diversamente In realtà no Filo Perché oggi L'aborto è legale in Italia Quindi non la pensa diversamente L'Italia La pensa esattamente come me Quindi E la stessa Meloni Perché non toccherò Persino la Meloni Ha detto che gli va bene Quindi non credo Che vive in un paese Che la vive E pensa diversamente Anzi ogni volta Che mi giro intorno E chiedo Ho solo risposte a favore Quindi mi sento ancora tranquillo Non mi abbono Dice Giordano Una smitragliata Se la farei Che cos'è una smitragliata? Una smitragliata Ah in Parlamento Una stragina organizzata Non lo so Una bomba sul treno Poco utile Oltretutto secondo me Fai il favore della controparte Gli dai un elemento Per Ti partirizzi Però a quel fascino Partecipa Alla viva vendetta Partecipa alla lunga battaglia Delle liberazioni dell'Ucraina Non salite una schiavania No perché purtroppo Non sono un militare Non ho studiato una militare E ho 42 anni Con l'ernia La schiena espulsa Ma di sicuro Combatto Incazzandomi Con qualsiasi persona Cerebrolesa Che appoggia le cazzate di travaglio Che dice che Dobbiamo smettere di mandare le armi Se l'Italia Prossi invasa Prenderesti le armi Se fosse invasa Se prenderei immediatamente le armi Senza pensarci mezzo secondo Purtroppo morirei tra i primi Però Sicuramente Farei lo sforzo Di prendere le armi Perché ricordiamolo La battaglia che faccio è Ogni volta che sento Un mentecatto Come qualcuno che sta in chat Purtroppo che dice Eh però no Perché le armi Quando sento Adda Floris Travaglio Le cacate che dice Mi giro attorno E sento Ma qualcuno di voi È d'accordo con questa roba Ogni volta che sento Qualcuno è d'accordo Cerco di fargli capire Che purtroppo Cerebroleso Pensa essere In guerra Attaccato in vaso Ti giri verso quelli Che potenzialmente Potrebbero essere i tuoi alleati E stanno a discutere Se ti possono aiutare Dare le armi o meno Ah sai una cosa Che però trovo Veramente allucinante Trovo allucinante Il tentativo Sistematico Di applicare Le leggi di guerra Cioè Che ci sono certe cose Che non si possono fare Certe cose che Legalizzare Sistematizzare la guerra In certi comportamenti Accettabili o meno Per me è follia pura Ma io lo so Che qualcuno è d'accordo Con Travaglio Ma che cosa ti devo rispondere Hai detto la tua frase Che ti dico Sì è vero Hai ragione Alessio La penso come te Lo sai che la penso In modo identico Su queste cose Sì Io la penso Su questa roba La penso in modo identico Ad Alessio Purtroppo siamo Una voce comune Su questa roba qua Dopodiché Filo che mi dice Sì per parlo Devi accettare Che qualcuno Siete d'accordo Con Travaglio Ma io infatti lo accetto Ma mi sento libero Di dire Che è un peccato E che è un coglione Come voi dite a me Che sono un coglione Io dico a voi Che siete dei coglioni Se siete d'accordo Con Travaglio Mi sento libero Di dirlo Perché per fortuna Non siamo in Russia E c'è la libertà Di darsi dei coglioni Io che la penso Diverso da voi E voi la pensate Diversamente da me Per fortuna Mi auguro Che non venga bannato Nessuno all'interno Della cia Non credo Perché ti dà del coglione Cioè ci deve essere Io voglio essere Chi mi ha dato del coglione Io sono abituato Io sono abituato A sentirmi gli insulti Perché la penso diversamente Dopodiché Ti ripeto Se venissero bloccati No Non devono essere bloccati Per me Per me tranquillamente Mi potete dare Sai cosa Mi faccio uccidere Per difendere la cia Potete darmi del coglione Senza problemi La libertà di parola È l'unico È fondamentale È fondamentale Che ci sia la libertà di travaglio Dal mio punto di vista Se Filo O chi per te Mi sembra che eri filo Mi sembra che fossi filo Sei d'accordo Con quello che dice travaglio Sei liberissimo da farlo Perché vivi in un paese Che ti permette Di essere d'accordo Con uno che dice Follie Questa è la bellezza Della libertà di parola Ma devi accettare Non essere travaglio Ma devi invece accettare Che io la possa pensare In modo diametralmente Opposto a te Però c'è un limite Siamo d'accordo Che però c'è un limite No Non c'è un limite Per me non c'è nessun limite Finché io non ti faccio violenza La diffamazione Esatto No violenza fisica E la diffamazione Perché ha delle repercussioni Che hai rubato Che hai stuprato Che mi dici Ma tu parli perché sei uno stupratore Allora ti potrei tribunare Se invece è nera opinione Puoi dire il cazzo che ti pare Se mi dici che sono un coglione Se invece qualcuno dice Ah no beh perché Quel romanzo Mein Kampf Ci sono delle idee interessanti Per me lo puoi dire Per me lo puoi dire Alla grande Alla grandissima Alla grande Ma per me puoi anche alzarti E dirti viva Hitler Per quello che mi riguarda Ma sai che c'è la Non c'è problema C'è la gravata illegale Della negazione dell'olocausto Cioè ti assumi la tua responsabilità Che per me è una roba antilibertaria Ti assumi la tua responsabilità Per dire una cosa del genere Ti assumi la tua responsabilità E Ma state scherzate No Per me c'è la libertà di parola Libertà di parola totale Quindi le persone che portano i fiorellini Sulla tomba del luce Sono delle persone a posto Se lo vogliono fare Però attenzione Stai cambiando la dialettica Mi stai chiedendo Se sono persone a posto Per me no Ma lo possono fare Per me lo possono fare Sono persone che Con problemi Non stanno commettendo un reato Per me no Assolutamente A meno che non lo fai diventare un reato Ma io sono contro Farlo diventare un reato È come portare i fiori Sulla tomba di Jim Morrison Per me è la stessa L'antico valore Esatto Cioè per me è lo stesso L'antico valore Dopodiché Però non mi dire Che sto dicendo che sono a posto No Per me sono malati mentali Ma devono essere liberi di parola Ma devono poterlo fare Per quello che mi riguarda Perché non fanno male a nessuno Quindi per me Se loro vogliono portare la tomba A predappio A fare le spedizioni Mi li guardo ridendo Perché E chiaramente Persone spostate Cioè quando vedi I video Che fanno le rite Ti ricordi Lega Con l'acqua del fiume Con l'acqua del piave L'acqua del poco Lo che cazzo era Io li guardo e rido Perché per me è come È come vedere veramente Il mio gatto Che si lava il cazzo da solo Allo stesso valore per me Però Non gli impedirei mai di farlo Sono due cose diverse Rido come quando guardo Alvin che tira sulla gamba E si lecca il cazzo E dico Madonna guarda che idioti Ma Non mi permetterei mai di dire Da oggi è vietato È vietato Per bere l'acqua del po' E dire che è santificata Perché allora dovremmo vietare Anche la religione Esatto Ma no Quello per me non ha senso Ma è molto bello Quello per me non ha senso A livello dialettico Che la devi smontare Semplicemente In un dibattito pubblico Devi sempre sperare Di avere la maggioranza Degli italiani Che non sono d'accordo Su Fare il ritorno del nazismo Esatto Però un giorno in cui La maggioranza degli italiani Voterà per il ritorno del nazismo Eh purtroppo Basta è democrazia Combatto Per cercare di spiegare Agli italiani Sarò in minoranza Sarò in opposizione Sarò in minoranza Però non sarò mai Per un governo Che dice Da oggi È vietato Andare a portare i fiori A predappio Perché per me non ha nessun senso Perché non deve essere vietato E la libertà di insulto Ragazzi La libertà di insulto È apologia al fascismo È reale Non è apologia Non è A parte che dovremmo discutere Soglierlo Perché quella lì Era una reazione Portare i fiori A predappio Non è illegale Perché altrimenti Quel cimitero Sarebbe chiuso Con le guardie fuori Che non puoi entrare Ma non è così Cioè Questa però È una cosa sbagliata Poi di nuovo Siccome parte sempre il coso Non sto dicendo Che bella gente È il contrario Per me sono ridicoli Ma da qui a dire Quella roba dovrebbe essere illegale Per me illegale è un'altra roba Per me illegale dovrebbe essere Non pagare le tasse Quello dovrebbe essere illegale in Italia Cioè Non portare i fiori A predappio Lo è illegale Sì illegale però Con l'ultimo governo Discutiamone Su cosa è illegale Dopodiché Quello dovrebbe essere perseguito Non la gente spostata Che va a predappio A portare i fiori Cioè quello Chi se ne frega Sono spostati Invece lo Stato dovrebbe stare lì A evitare che tu non paghi le tasse Lì dovrebbe investire Il 100% dei suoi sforzi Non su ste cacate Capito E questo è quello che dico Dopodiché Di nuovo Poi magari Aspetta C'è un problema Che con il nostro atteggiamento È possibile che I nazisti Possano fare proselitismo E ridiventare un problema È possibile Però quello è diverso Esatto Però è possibile Perché se tu lasci libertà di parola Fai la scuola del nazismo Non commettono nessun reato Certo E c'è possibilità di Però devi lavorare A livello culturale E sociale Perché queste cose Non prendano piede Punto Spiegando Ricordando l'orocausto Parlando della guerra Spiegando quali sono i valori Che vogliamo tramandare Dicolo giustamente Tanto al Parlamento Si discute Dell'assicurazione sulle biciclette Casco obbligatorio E frecce di direzione Che ne pensi? Beh le frecce sono utili Sulle biciclette Penso che devi incentivare al massimo Anche il casco per me Ha senso Lo puoi rendere obbligatorio L'assicurazione Devi incentivare al massimo No assicurazione Con le biciclette Con le biciclette Che finiscono nel naviglio Direi anche no Ma anche con la gestione Delle assicurazioni in Italia È complesso No però se hai un'assicurazione A 3 euro Che cazzo Non so 5 euro Allora fare un'assicurazione Sulle persone Sei obbligato ad avere un'assicurazione Perché anche se Personale Perché puoi anche dare un cazzo Sbattere contro uno E rompere Sì A sto punto Lo legherei più alla persona Che alla bicicletta Vorrei sapere qual è L'entità dei danni Provocati dagli incidenti In bicicletta A terzi Che non ha trovato soddisfazione In tribunale Le robe del genere Però effettivamente Se una bicicletta Ti arriva contro la portiera Della macchina Cioè Chi paga Cioè tu devi rivalere Sulla persona fisica Magari non c'hai soldi Cioè la questione assicurativa Potrebbe essere resa obbligatoria Dopodiché per esempio La targa Per me non ha nessun senso Cioè Complicare La burocrazia Della cosa Cioè Sulla persona sostanzialmente Non sulla vettura Quando la persona usa La bicicletta Ma quello è un problema Dell'Italia Della gestione Delle targhe in Italia Rispetto all'America Grazie non mi abbono Te li renderò Ma grazie del supporto E no Non vogliamo tornare a parlare Di videogiochi Perché abbiamo parlato Per soli 6 giorni 10 ore al giorno Di videogiochi Se anche ci ritagliamo Un'ora per parlare Di altri cazzi Non penso che non muoia nessuno Però dicevo giustamente Cristina Occhio ad alzarti E dire Viva Perché poi è un attimo Che ti clip Se però Mi decontestualizzano Se mi decontestualizzano Però allora posso dire Cioè qualsiasi cosa E anche Allora gli parte la querela Sì esatto Cioè se mi decontestualizzano Allora poi mi porto in tribunale Capito mafia toscana Poi mi porto in tribunale Se mi decontestualizzano Perché io sto facendo Un discorso molto interessante Fonte di dibattito E se vengo decontestualizzato Allora faccio veramente Come travaglio E ti porto sempre in tribunale Detto questa cosa qui Perché non ha nessun Nessun senso Per quello che mi riguarda Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Esatto Esattamente Cosa ne pensi Il sottoromano Ragazzi per me è folclore Cioè è una roba È folclore Per me è folclore È una roba folle È come per me Ripeto Ma per me è come quelli là Che si fanno il segno della croce Come quelli che bevono l'acqua del po Come quelli là Che si fanno crescere il baffetto In un modo Come quelli che si radono a zero È folclore È una roba ridicola È come quello che si veste Da arlecchino Cioè per me Non ha nessun valore Non è il problema Non è uno che fa il saluto romano Il problema è che Quello che fa il saluto romano È talmente coglione Da pensare Che abbia un valore O che debba esprimere qualcosa Il problema è il cervello Che sta dietro al saluto romano Non è il saluto romano Perché tanto Anche se gli levi Il saluto romano Rimane comunque coglione Con le sue idee Non è che Se gli levi il saluto romano Diventa intelligente O studia O diventa più acculturato O capisce i problemi Cioè Gli levi una roba Che poi lo scriverà A fare il messaggino su whatsapp Non risolvi il problema Non risolvi impedendo il folklore Dovresti far studiare le persone Dovresti fargli capire Il male del fascismo Il male del nazismo Il male del comunismo Dovresti acculturare la gente Non impedire Che si esprimano come Quelli che si fanno Il segno della croce È sempre il suo discorso Io non condanno quello Condanno La persona Che c'è dietro al saluto romano Condanno Che quella roba lì Diventi un motivo Di unione Quella roba è una follia Ma per me so come quelli là Che sbandierano le bandiere Allo stadio Cioè È lo stesso tipo di appartenenza Devi denotare appartenenza A Un gruppo E ti senti contento Perché c'è la sciarpa C'è la bandiera O fai il saluto romano Ma non cambia il valore Di te come persona Sei un coglione Se lo fai Perché non sai Che il significato ha Lo fai perché te fa ride Lo fai perché vedi Gli amici che lo fanno Ma probabilmente Il 99,9% di quelli Lo fanno Non sanno manco Che significa E questa è la follia del mondo Perché dovresti invece studiare Ma che ci risolvi Se levi il saluto romano Pensi che la gente Non sia fascista Se levi il saluto romano Pensi che sia meno fascista Quando alla russa Levi il saluto romano Pensi che non sia fascista O quando lo levi alla Meloni O quando lo levi al ministro Dovresti levare Quella gente dal pianeta Ma è stata votata Quindi quando Quando va il ministro Quello che c'ava le foto Vestito da Hitler Pensi che siccome Non sta più vestito da Hitler È meno fascista Cioè Rimani coglione uguale Non è che è cambiato È cambiato qualche elemento Solo perché non si veste tale Da questo punto di vista Cioè Purtroppo non cambi Non è Cioè è come per evitare Pensi che per evitare Un atteggiamento Uno stato d'animo Un pensiero Basta levare L'esternazione finale No Non sto dicendo questo Quindi Però Che fastidio ti date Il saluto romano Perché ti faccio capire Che sono fascista Mi fa schifo Perché mi ricorda Un periodo Non mi Ma se io la penso Comunque uguale Mi fa vergognare Di essere italiana Perché Perché purtroppo Quella parte di passato Fa parte Non dico che deve esserci Del negazionismo Però è una roba Che non dovrebbe esistere Ma dopo che me l'hai levato Pensi che io sia meno fascista? Dopo che mi hai levato Il saluto romano Pensi che cambi Il mio atteggiamento? E che per me Per certi aspetti Per certi aspetti Dovrebbero esserci Delle leggi Che ti perseguono Perché il fascismo Non è un'opinione Pierpaolo Non lo so Ma non ho mai pensato Che sia un'opinione Cioè Non l'ho mai pensato però Perché tu mi metti Perché tu mi metti Sullo stesso piano La religione E il fascismo No Ti metto No Ancora Non mi mettere in bocca Cosa Ti metto sullo stesso piano Quello è il falso autorumano E quello è il falsogno Della croce Te lo metto sullo stesso piano Esatto Non mi mettere in bocca Che dico il fascismo Alla cattolicesimo Però ti sto dicendo Che non ci sono Per me ci sono Delle cose Ok Delle aree Simbologie Del folclore No Delle ideologie Che devono essere vietate Ma il saluto romano Non Cioè Se levi il saluto romano Non hai tolto l'ideologia Purtroppo Allora Se ci fosse Aspetta Se ci fosse uno studio Che dicessi Nel momento in cui Togli il saluto romano La gente smette Di pensare al fascismo Allora ti direi sì Allora sì Ma io infatti Non ti dico che devi eliminare Non ti dico che devi eliminare il sintomo È però è quello che è È però è quello È però è quello No Devi eliminare la malattia Ma tu mi dici che per te Non dovrebbe essere fatto il saluto romano La malattia la curi con la scuola Esatto Con la cultura Non la curi Le mando il saluto Non ci siamo però riusciti molti Però non la curi Però non c'è un altro modo Giordà Anche se levi il saluto romano Fammi parlare Io non sto dicendo Di eliminare cose Di fare il negazionismo Perché nel momento in cui fai il negazionismo E decidi di non parlare di quella cosa È come fare piazzatina almeno Ok È la stessa identica cosa Ci siamo Ok Ok Ti sto però dicendo Ci sono alcune cose Che non è Che per me Nella mia sensibilità personale Non rientrano nella libertà di espressione Ok Però si cazzi la tua morale personale A meno che non fai un partito Acquisisci la maggioranza Quello è un tuo pensiero Del Parlamento E fai diventare la tua morale legge Ti sto parlando da privato cittadino Ti sto parlando da privato cittadino Per me è la gestione Però tendenzialmente Io personalmente non lo condivido Neanche io Non è che ti impedisco di pensarla così Per me è quello che fa il saluto romano È identico a quello che va in giro per strada Fischiettando bella ciao È folclore È lo stesso valore Non è che uno fa più male dell'altro Volevo solo dire una cosa È folclore Avete citato mentre ero su Galeazzo Bignami Che ci tengo a precisare È l'espressione del liceo Augusto Righi Di cui io ho fatto parte Lui era in quinta F E io ero in terza E Insomma Ne abbiamo passate Tanti insieme Io e Galeazzo Eravamo insieme Ai Balilla Ai Balilla del Righi Cioè a me piacerebbe arrivare A un punto In cui certe cose Non si dicono Ma non perché Perché c'è Una Una legge che te lo impedisce Ma semplicemente Perché siamo arrivati al punto Di capire che E questo magari La scuola Ma levando il sottoromano Non arriverai mai a quella cosa Che dici te Non è che levando il sottoromano Raggiungi quel foco Ogliere il sottoromano Ogni tanto mi chiedo Sai cosa che non mi piace molto Del neofascismo Roba del genere Il fatto che non ci sia Nessun elemento di originalità Loro sistematicamente Si ispirano Si ispirano Al passato fascista Al passato fascista E vogliono rivigorare una cosa Solo di ignoranti Ma io non voglio rispondere Io non voglio rispondere Devi rispondere Non posso rispondere Devi rispondere Perché stavo per dire Ti prego Alessio Devi rispondere La mia risposta è Stavo per dire a Giordana Pensa a tutti i ragazionisti Del covid E dei vaccini Io voglio Che cosa gli vuoi dire Io voglio che rispondi Ti mandi a scuola Risky breaker Non ci torna Secondo te quanti anni ha Non doveva interrompere Al terzo superiore Anche il legale Perché i genitori Te l'hanno permesso Ed è per questo Che secondo me Ci sono certe cose Che necessitano un patentino Vuoi guidare Prendi la patente Vuoi fare un figlio Prendi la patente Vuoi votare Non puoi Secondo te Ti lo decidi tu Qual è il parametro Nazista Lo decidi tu Qual è il livello Di scolarizzazione E competenza Per andare a votare Nazista Secondo te Secondo te Giordana Risk breaker Il suo problema È che può fare Il saluto romano Cioè quando uno ti dice Che è il pietato Dei dodici anni Con zero vittime Nel mondo Il suo problema È che eventualmente Fai il saluto fascista Il suo problema È che Il suo voto Conta come il mio Eh lo so Ma perché Eh vabbè Però quella è la democrazia Devesse così Cioè non la gente Stavamo con l'oligarchia Ma su che basi Chi elevi Ai tempi dei platoni Che solamente Gli aristotelici Che avevano studiato Gli altri hanno gli schiavi Gli altri hanno gli schiavi Però allora A quel punto Allora a quel punto Cerchi Cioè lui dice Si risolve con l'istruzione Sì Un progetto a 50 anni Sì Vedere una politica Assolutamente Che investe Invece che nelle cazzo di armi Sì Ma non l'ha mai fatto nessuno Sai cosa Però è l'unica soluzione Ma non l'ha mai fatto nessuno È l'unica soluzione Invece dello stipendio Da 5200 euro che prendi Ne prenderai 5150 Perché quei 50 euro Andranno nella cazzo di scuola Non l'ha fatto nessuno Eh lo so Però il risultato Non è che levando il saluto fascista Risolvi questo problema Ma non è quello Appunto Quella è una cosa diversa Cioè Se esiste Risk Breaker Che parla Arriva qui scrive in chat Perché allora Draghi Che ha impietato Ai dodicenni di fare sport Perché con Regalategli un abbonamento Cioè Risk Breaker Andrebbe preso Portato a scuola Per 15 anni E gli va spiegato Come funziona il mondo Va acculturato Perché lui Se dice queste cose È perché poverino Non ha fatto Non ha avuto cultura E non solo Magari acculturato Arriva anche A spiegarmi Perché ha ragione Perché per me Lui va a scuola Impara Argomenta E un giorno arriva da medico Sai cazzo Avevi ragione Me l'hai dimostrato Sono certo Che allo stato attuale Il livello della conversazione Sarebbe da Prendiamo l'asfaltino E passiamo sopra Risk Breaker Vedi perché poi In quell'età Allora zero vittime In quell'età Non accanitevi contro il lettore Ma il cazzo Gli sto dando voce Invece di ignorarlo E un invito Anche a migliorarsi Esatto Zero vittime In quell'età Analfabeta Che non sei altro Le vittime Chiaramente Parlavano te Sì era come Le vittime nel mondo Sono milioni Ma zero statisticamente Che non so Che significa Zero statisticamente Nei bambini Analfabeta Prenditi tu La responsabilità Di dire una stronzata Del genere C'è calcola che Non è che Draghi Fosse esperto Non è che neanche Giuseppe Conte Di cui io rispetto Zero Avessi alcuna responsabilità O competenza Al riguardo Sei in una situazione Di emergenza Prendi decisioni Che probabilmente Erano anche sbagliate Io non lo metto in dubbio Che ci sia il dibattito È perfettamente legittimo Ma arrivare a dire Quello È dittatura È una minchiata È una minchiata Usciamo dall'emergenza Poi dibattiamo E la prossima volta Magari i bambini Fino a 12 anni Continueranno a giocare Nei parchi E sticazzi anche E allora Mi chiede Sempre di scoprire Quanti bambini Sono morti di covid Nella tua città o paese Non lo so Tu le sai Tu hai le statistiche Di tutte le città o paesi Del mondo Complimenti Ma anche sticazzi Il piccolo del boschi Dice no Però per poi Lo stai pensando In maniera superficiale Perché dai solo Degli ignoranti A chi fa il saluto romano Fida di tanti esempi Di persone Molto acculturate Studio se sono grandi Sostenitori del fascismo Mi dispiace amico mio A parte non ho dato Degli ignoranti Degli pochi mancanzi Acculturati Ma se sei acculturato Non puoi essere Sostenitori del fascismo Mi inquieta Quando sei andato a scuola E sei ancora convinto Se sei convinto Di esserci contato Di amici acculturati E che sostengono il fascismo C'è un problema O non sostengono il fascismo O rivedi il tuo parametro Di acculturato Esatto Non sai cosa significa Essere acculturati Che può essere Cioè a me dispiace Questa cosa qua Perché acculturati E sostenitori del fascismo Non può essere Nella stessa frase Amico mio Non può essere Poi non si sa mai Io cogito sempre Il beneficio del dubbio Magari il nazismo È il migliore Dei mondi possibili E non lo so Anche qui Non diamo A gente che vuole Clippare In modo Però ogni tanto Ci penso Io personalmente Non mi considero Cioè commetto Piccoli crimini Ok Quando Piccoli crimini Sì Quando vado Per mari Su internet Quando parcheggio In doppia fila O roba del genere Non commetto Grandi reati Ma aspetta Per Paolo Vai vai Il controllo Della Cina Sulla popolazione Lo stato di polizia Ok Che nel momento In cui io parcheggio In doppia fila Immediatamente Ti sfonda il culo Mi toglie la macchina Esatto Smetto immediatamente Di parcheggiare In doppia fila È automatico Mi chiedo Mi chiedo Questa libertà Assurda Che noi vogliamo Questa libertà Che noi vogliamo Autogarantirci Di Noi ci vogliamo garantire La possibilità La possibilità Di commettere reati Per ora Per me è un mondo Accettabile Ma io mi interrogo Se uno stato di polizia Dove effettivamente Se qualcuno commette un crimine Lo vedi in faccia immediatamente E lo metti in galera In tre minuti Cioè È un mondo brutto A cui pensare Dove C'è una coercizione A non Uscire dalle leggi Dipende Chi fa le leggi Quanto cambia il governo Per quanto mi riguarda Perché il problema della Cina Non è La società del controllo Il problema della Cina Che a controllare Sono sempre quattro stronti E sono sempre gli stessi Come Putin Sono sempre gli stessi Non c'è dibattito Sono sempre gli stessi Una vita È una specie di Perché non c'è libertà Di parola Non puoi dibattere È il faraone In Cina Comunque Vi dice Mordenis Perché per Paolo Una le sue ideologie Ma io Cazzo ragazzi Vi sto difendendo con Giordana Cioè per me Voi siete Giordana che non vuole Che facciate il vostro Legittimo saluto romano Voi ragazzi Siete liberissimi Di andare in gira A fare il saluto romano E a pensare che il fascismo Sia il mio governo Il miglior governo possibile E io E io morirei Perché voi Possiate Continuare ad alzare Di queste stronzate Ma io mi sento Liberissimo di dirvi Che se lo dite È perché non avete studiato Cioè siete liberissimi Di dirlo Perché è bella la democrazia È l'unica spiegazione logica È bella la democrazia Poi per Paolo Che si rea Una persona intelligente Mi fanno a pensare Ma se uno fa il saluto romano Pensa che il fascismo Sia un bel governo Che era meglio Quando c'era lui E i treni arrivavano in orario E potevi lasciare la bicicletta Senza catena Io penso Penso che non hai studiato Io mi sento di stare Dalla mia parte In cui mi date Della totalitarista Mi date Della Non lo so Dell'elitarista Perché Però Su argomenti sempre diversi Cioè Non sul totale Sei Dittatorialista Ed elitarista Sei In alcuni ambiti Dittatorialista In alcuni ambiti Sei elite Ricordiamo Ricordiamo ragazzi Che vi vuole togliere Il diritto di voto Almeno il 60% di voi Non potrebbe votare Forse anche l'80% Esatto No Ci sono delle volte Ci sono delle volte In cui Non dico che Non dico che deve essere Obbligatorio Mettere il patentino Per il voto Però mi chiedo Effettivamente Come tu ti chiedi Ti interrogo Ghiama come sarebbe Se What if Ok Io mi immagino Un what if C'è già stato Paesi La Grecia Veramente la Grecia Ellenica Per me ci sono Sempre per la mia sensibilità Di singolo cittadino Sono delle cose Che sono così Abominevoli Ok Il negazionismo Il terrapiattismo Che fai Non dovrebbero votare Se uno è terrapiattista Non può votare Ma come fai A essere terrapiattista Ma Nella tua Nella tua società ideale Se uno è terrapiattista Non può votare Mi stai Dando prova Del fatto Che non hai superato Ma nella tua società ideale Il terrapiattista Non può votare La domanda è semplice Non farei come Alessio Ma metti chi ha ragione lui No no ma non voglio mai quello Nella tua società ideale Il terrapiattista Non può votare Deve fare un test E non va bene Quali sono le domande Cioè che ti chiede La terra è piatta rotonda Non va bene così Oppure è una questione Di competenza E di conoscenza Del funzionamento Del Parlamento Non va bene ugualmente Perché altrimenti poi arriva Mussolini Che va al Parlamento E ti fa Devi solo mettere sì E no nella schedina Te piace il fascismo Non ti piace Guarda Basterebbe un testo Cioè un'analisi Di comprensione del testo No puoi fare Purtroppo La maggior parte Delle persone In Italia Non ha un grado Di istruzione tale Per leggere un documento E capire cosa c'è scritto Pensano ai 48 Che hanno votato Per la Repubblica E non sapevano Parlare italiano Attenzione Se noi oggi Andassimo a votare Referendum Sull'aborto Sì Ok La maggior parte Delle persone Probabilmente Voterebbe Non Cioè Voterebbe contro Cioè per Per togliere Ok io sono convinta Invece per me no Per me no Io non sono così sicura Che con il voto 100% Che con il voto Così libero La maggior parte Delle persone Voterebbero per idealismo Voterebbero perché Non sono capaci A comprendere Perfetto Aspetta Guarda cosa è successo Con la Brexit Guarda cosa è successo Si chiama democrazia Fa cagare Ma si chiama democrazia Perché la democrazia È imperfetta per definizione Ti dico un'altra cosa L'aborto Io non ne voglio sapere nulla Dell'aborto Voglio Giordana che mi dica Sai Alessio Stiamo per votare Sull'aborto Non ti deve interessare Cos'è l'aborto Però è una possibilità Che io ho di fare qualcosa Che mi viene tolta Arbitrariamente Come vuoi votare? Voto per la tua libertà Non voglio neanche sapere Cos'è l'aborto E tu non mi faresti votare Perché non ho idea Di che cosa sia Ma io non lo dico Perché ho un mondo ideale Perché voglio governare il mondo Lo dico perché Nel momento in cui Siamo chiamati a votare Vuoi il mondo come lo vuoi tu E sei nazista E lo vuoi applicare A suon di cesoiate Della popolazione Non è che lo voglio applicare Come voglio io Voglio il mondo che voglio io Sembra abbastanza chiaro In realtà Però la stupidità altrui Mi preoccupa Posso essere preoccupata Per la stupidità altrui Assolutamente Lavora per mandarle a scuola Non per togliergli Il diritto di voto Io non posso fare niente Da cittadino Posso pagare le tasse E votare delle persone Che hanno un programma Politico Che investa nella scuola E sperare che le persone Che voto Investano nella scuola E questa cosa Non sta succedendo Da cinquanta anni Ma allora non è che puoi Togliere il voto A quelli di A quelli di Non sto dicendo Che va tolto il voto Però è quello che dici Invece Però O ti esponi E dici delle cose chiare Hai detto Il voto andrebbe tolto A delle persone Che non passano Una barra Che stabilisce E non si sa bene chi Tendenzialmente tu Perché è un'opinione tua Quindi tu hai una barra Se passi questo bar Voti Oppure non voti Quindi vuol dire Togliere il voto Delle persone Secondo parametri Totalmente arbitrari Decidi da te Se non è nazismo Questo Io non so cos'è il nazismo Esiste semplicemente Che vai con le pistole Davanti ai sei genitorali Non c'è nient'altro E che purtroppo Per me Certi diritti Devi guadagnare No Sono diritti Dell'umanità Ci sono I diritti I diritti Umanitari Sono Sono universali Ha anche il diritto Di voto Però Nel momento in cui La tua Persona Che può essere Per un'ideologia Può essere Per una tua stupidità Può essere Per questo Lede il prossimo Non lo lede il prossimo Va a votare Lede il prossimo Me lo devi dimostrare Il tribunale Perché non lo fa Ma scusami Ma scusami Ma se la maggioranza Della popolazione In Italia Diventa Vogliono fare Una teocrazia Ma mi spieghi Cioè Io rimango in minoranza Ma perché non dovrebbero Votarlo Ma io me ne vado Ma sei libera Ma non è che non possono votare Se ti costringessero qua Cioè Se 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 ci fosse Un mondo fatto Cioè Se la maggior parte Degli italiani Reputassero Il Papa Massimo esponente Della politica Ideale In Italia E votassero Un referendum In cui dicono Vuoi che il Papa Sia il governo Il governatore E sia il primo ministro Finché non muore Lo votassero Dicessero di sì Cioè Io probabilmente Combatterei Per evitare questa cosa Ma non è che dico Se una gente Se una persona Pensa così Non deve votare Mi dispiacerebbe Perché dico Ammazza Che paese di merda Che vivo Però Sono liberi Di esprimere Il loro pensiero Poi probabilmente Mi starei di fianco A Elie Schlein E a non so chi A cercare di combattere Ma a parte che Elie Schlein Appoggerebbe Una follia del genere In certi casi Imbraccierei le armi Non lo so Cioè Dipende da come si Non mi immagino Che il Papa Sia lì A soffocare Nel sangue La sua elezione Magari Magari Reistituzionalizza La santa inquisizione Non lo so Non ho quello scenario Però Combatterei affinché Uno Possa dire Questa follia Che il miglior governo È quello del Papa È giusto che lo dica Poi purtroppo Mi sarò lì a interrogare Con Rebecca E gli dirò Figlia mia Ti prego scappa Perché stai in un posto Dove la gente Pensa che il Papa Sia il miglior primo ministro Per noi non c'è più speranza Cioè Però Lo trovo Lo trovo Ripeto Io non sono antidemocratica Dico soltanto Che Dico soltanto Che la stupidità Altrui mi spaventa Questo però è diverso Sì Posso ricontrollare Posso ricontrollare Il tattoo Se per caso Tra i vari simboli C'è anche quello Della stella quattropunte No Non c'è La stella quattropunte No Dico soltanto questa cosa Ci sono Purtroppo Viviamo in un mondo Siamo arrivati a un punto In cui le persone O per una loro O per una loro mancanza Che è una mancanza Ovviamente Che parte da un disagio Socioculturale O per una questione Di ideologia Purtroppo Sono persone pericolose Cioè Io dico solo questo Poi è chiaro Che non voglio mettere Il patentino Per il voto Però Quando lui dice Ah no Come sarebbe se Allora il mio Come sarebbe se È così Questo però Questo è legittimo Questo è legittimo Aspetta Sul mondo che vorremmo Siamo d'accordo Io contesto il tuo metodo Non Il mondo che vuoi Esatto Perché non è abbastanza L'ideale Sicuramente anch'io Vorrei un mondo Senza terrapiattisti E senza novax Il mio motif è quello Sicuramente Però non è che Sparo è terrapiattista 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 Impedendo Esatto Però dopo di che Quello un conto è il what if Il mio mondo ideale Un conto è il resto Cioè per me il mondo ideale Dico però se non ti piacciono Le merendine Non puoi votare Cioè capito Se non ti piacciono Le donne nude Non puoi votare Dico semplicemente Cioè il mio mondo ideale Ma Non impedisco Agli altri Di esprimere La loro libertà di pensiero Cioè questa è la cosa Fondamentale Come questione Ti sto dicendo però Che certe libertà Che nella libertà di pensiero Certe posizioni Mi spaventano E c'è questo Che ti sto dicendo Ok Però ti voglio far chiudere Con un'altra cosa E voglio sentire anche Alessio Come la mettete invece Con i ministri Cioè Mentre dico Il terrapiattista Deve essere libero Di votare Mettereste al governo Dell'istruzione Al ministero dell'istruzione Un terrapiattista? No Perché siamo tutti Nel mio what if Siamo tutti cittadini Non importa la tua levatura sociale Non importa il lavoro che fai Non importa Tutti devono passare Il test Ok Per fare i ministri? O per vivere? No Cioè Se vuoi stare Non puoi mettere Al Ministro dell'istruzione Un terrapiattista? No Non puoi Però perché? Come lo gestisci? Pure te Alessio Per me è accettabile Solo se è laureato Poi essere ministro? No Non so quali siano i parametri No In un'ipotesi Oggi non credo ci sia nessun parametro Vanno benissimo i parametri che ci sono I ministri e l'elite che governa Sono espressione della votazione del popolo Quindi Se tu lavori sul popolo Teoricamente Per proprietà transitiva L'elite espressa dovrebbe migliorare Attualmente C'è della merda Perché Siamo un popolo di merda Esatto Ma Potenzialmente Migliorando la base Migliorerebbe anche l'elite Ricordiamoci Io mi ricordo Come si chiamava il ministro delle infrastrutture? Dicolo Quello lei del 5 Stelle Tognoli? Cioè ricordiamoci Tomino Tonino Tognoli Tolino Ricordiamoci quella barzelletta Mamma mia Lui era incredibile Lì siamo veramente a terra fiatismo Prima hai detto Prima hai detto Prima hai detto Che se passasse la legge contro l'avorto Avresti dato la vita per combatterla Secondo il tuo ragionamento Se fosse frutto di una scelta democratica Non dovreste accettarla Andartene L'ho detto prima Sarei nell'opposizione E manifesterei Per far sì che Si converta la questione Ci sia un dibattito Per far sì che venga rimessa la legge A favore dell'avorto E se non c'è modo Se mi rendo conto Che sono in una minoranza tale In cui non c'è neanche dibattito Me ne vado Qui hanno cambiato il gioco Della dialettica democratica Se lui si trovasse In una situazione In cui È impossibile Perché qualcosa è cambiato Cioè Di base si metterebbe a Protestare Esatto Dopodiché se invece Cominciano a tirar fuori le armi Per Perché ti impediscono Di fare il referendum successivo A quel punto Ti fa ammazzare Fai la guerra Cioè se mi fai la guerra Ti faccio la guerra Ma io accetterei Io l'ho già detto prima Se facessero il referendum Che diventa illegale fare l'aborto Diventa illegale cambiare sesso Ma siamo le giornate in piazza Purtroppo è un referendum Ma accetterei Sarei veramente Abbattuto personalmente Di pensare di vivere in un paese Così retrogrado Da essere contrario a delle robe del genere E scenderei in piazza Per cercare di spiegare Che è una follia Una roba del genere Ma non è che entro Come dicevi te In Parlamento E ammazzo la gente No Perché ho un referendum A smitragliare Non entrerai in Parlamento A smitragliare Cioè Scendo in piazza Con le molotov Non scendo in piazza Con le molotov Posso dirti Posso dirti una cosa impopolare Io penso che il dibattito Sull'aborto Sia un dibattito Perfettamente sensato Perché se qualcuno Crede che con l'aborto Si uccida una vita E difendere la vita Per loro È un valore Inalienabile Secondo me È un dibattito È una battaglia Che devono combattere Sono contento Che siano in minoranza Esatto Perché Almeno le evidenze scientifiche Mi dicono che C'è ampio dibattito È giusto Però come fai A togliere A un cristiano cattolico Il pensiero Che sia una vita E tu difenderesti Qualsiasi persona Nata Ma non difendi una persona Tra virgolette Riconosciuta come tale Da certe persone Prima di uscire dall'utero Cioè Dov'è che lo stabilisci Infatti si dice Tre settimane Cinque settimane È stabilito per convenzioni È arbitrario È arbitrario per convenzioni Con l'appoggio Della comunità scientifica Però il dibattito è perfettamente sensato Esatto Cioè non direi mai Se sei contro l'aborto Devi morire Cioè sei un idiota Semplicemente hai dei valori Completamente diversi Cioè io trovo giusto Difatti io trovo legittimo Che ci sia un dibattito su L'aborto Non aborto E tutto quanto Come ha detto bene Alessio Sono molto contento Di essere in uno stato Dove È minoranza Quelli che sono contrari A un'espressione del genere Ma non mi sento Di criticare Contestare O impedire Di votare Dire la sua Uno che dice No per me Dal momento in cui c'è La prima cellula Che si divide C'è l'anima Data dal signore Per me merita Di nascere per forza Per fortuna viviamo In uno stato Che non è religioso Cioè Ma una cosa Un'altra cosa Ti dico Giordana Pensa a fare sesso Con i minorenni O roba del genere Noi abbiamo stabilito Noi abbiamo stabilito Arbitrariamente Socialmente Che ci sono dei limiti La maggior età Per essere consensenti E fare sesso Ok Sotto Se sei maggiore Ne tu E minorenne lei È un casino Va dimostrata la consenzenza In tribunale Ci sono delle età Per cui non lo può fare La natura Ti dice che dal momento In cui una femmina Ha le mestruazioni Tendenzialmente è Pronta per fare sesso Ok Lo dice la natura Io accetto perfettamente Qual è la barra Occhio su che terreno Ti stai muovendo Io mi muovo sul terreno Io accetto perfettamente Qual è la barra Che la maggioranza Della popolazione italiana E della comunità scientifica Hanno deciso Arbitrariamente Che sia vivere civile Ma La natura dice Ben altre cose E cioè purtroppo E non solo Non le discuto Non le discuto Però capisco Che ci sia qualcuno Che fa dibattito a riguardo Perché ha dei fondamenti Cioè È complesso Hai un'opinione a riguardo Cioè Riesci a dire Che sto dicendo una cazzata Cioè E non ti sto parlando Delle spose bambine In età premestruale No Un'altra roba Cioè ti sto parlando Del fatto che La natura ha detto Che sono pronte per procreare Ma tu vuoi davvero Affrontare questa cosa? E questa Avere paura di affrontare i temi Impedisce il dibattito Ed è quello La paura di affrontare i temi Bisogna affrontarli Non è paura di affrontare i temi È che non c'è dibattito E quindi se non c'è dibattito Hai un'idea a riguardo Cioè per te 16 anni 18 anni Non lo so Perché è innaturale È una convenzione sociale Dal mio punto di vista Una convenzione sociale È una convenzione sociale La legge è stabilita per legge Non è nient'altro Dov'è che siamo maggiori A 18 anni? Ma dove cazzo sta scritto Anche qui sono paesi Dove sei maggiore A 21 Paesi dove sei maggiore A 16 Non puoi bere l'alcol A 21 anni A 18 anni In America Però puoi scopare Probabilmente puoi scopare Anche prima Non ne ho idea Sono dibattiti Con cui è ovvio Che c'è È la democrazia È la democrazia È stato deciso Che quella è la cosa Però allora Perché la natura Ti dimostra altro? Perché anche lì Rientra sempre il suo discorso Di quanto vuoi forzare Una roba di natura Rispetto a una convenzione sociale Che è stata applicata Perché giustamente I parametri culturali Esatto Far sì che uno Stato Ci sia la possibilità Di Non lo so Sposarsi a 12 anni Pensa in India Gli frega un cazzo Cosa gli dici? Siete un popolo retrogrado E merda E roba del genere Hanno dei valori diversi E probabilmente Se hanno un'età stabilita Cazzo di cane Sarebbe da ridiscutere Non lo so Però il dibattito Anche lì Il dibattito per me È bene È bene parlare delle cose Non avere paura Di parlare delle cose Ok Vabbè A parte questo dibattito qui Evolution Dice che devi leggere Evolution and Ethics Alessio Perché Di Thomas Henry Huxley Cioè devo imparare Ancora più di quello che so? Sì evidentemente Evidentemente sì E Fatemi vedere No basta È finito Questa cosa qui Allora Penso che vorrei chiudere Questa live Andare nella mia torre dorata Di totalismo E litarismo Nell'albergo che è tutto Tranne che la torre dorata L'albergo dove sei? E l'esatto È la fogna Chiudemici dentro Da dove che Mussolini faceva Che parlava qui Piazza Venezia Ecco Dal tuo appartamento In piazza Venezia Dal tuo balconcino In piazza Venezia Sì esatto E cominciare a scrivere il test Brava Dentro cui Tutti possono Ah beh Vuoi mettere Le fondamenti del tuo main camp Beh mi avete dato Dei grandi spunti Questa sera Mi avete dato Dei grandi spunti Questo è bello Perché a una butade Hai visto la debolezza Magari del pensiero Perché effettivamente È un ragionamento complesso E ti troverai a Mettere giù le domande E dirai Effettivamente questa Contribuisce a parametrizzare Gli esseri umani In un modo Che possono È una roba complessa E rifletterci sopra Per me è molto interessante Perché ci deve essere un test Per esempio per me potrebbe essere un test Esistere un test Di alfabetizzazione Sul funzionamento Di che cazzo stai andando a votare Perché devi sapere che Siamo in una repubblica parlamentare Dove il presidente del consiglio Non lo stai votando Devi conoscere lo stato Cioè quindi mi devi fare Un test di cinque righe In cui sai che cazzo stai Cioè l'educazione Civica Sì l'educazione civica Ma neanche la Come si chiama Civica Il diritto pubblico Un minimo di diritto pubblico L'educazione civica L'educazione civica Il diritto pubblico Minimo Che ti serva per capire Che cosa stai andando a fare Non lo contesterei Non lo contesterei Ti chiedono in tantissimi Che tessuto è la tua camicia Vedo che c'è un grandissimo dibattito È sudore È sudore È presente tipo Come si chiama Il ragno Per esempio Quando tesse la tela È un prodotto organico Che esce da delle ghiandole Sudoripare Sì esatto Tessuto Sì esatto Andrea Però non è passata questa cosa Ma va bene Dici che cosa ha detto Andrea Che lo lapidiamo in pubblico Non l'ho neanche letto Cosa ha detto Andrea Passalo troppo veloce No lascia che lo dice Giorgono Quello che dicevi tu Cioè avere dei Parametri Dei parametri Esatto Per capire se quella persona Effettivamente Cioè è consapevole Di quello che sta È consapevole Di come sta esercitando Il suo diritto Per me se ne potrebbe parlare La questione è che non puoi essere tu A decidere la barra Ma certo che non Devo essere io Una scelta condivisa Votata in Parlamento Per cambiare la Costituzione Ma chiaro che non sono io E molto probabilmente Perché qualcuno Io probabilmente lo voterei Perché qualcuno mi diceva Quindi tu ti senti all'altezza No probabilmente Magari viene fuori Che votiamo Che dobbiamo votare Che tu lo voti No che dobbiamo votare Una roba fiscale Che io non ne so un cazzo Faccio il test su Hai capito di che cosa stiamo parlando Viene fuori che non lo so E quindi è giusto Che io venga esclusa Non saresti d'accordo A parametrizzare un attimino Cioè qualcosa di molto basso Prima di fare un danno Io non lo negherei Deve essere condiviso Da una maggioranza Qualificata del Parlamento Al 75% Che prenda dentro Anche la minoranza del Parlamento Quasi quasi un cambio Anzi sarebbe un cambio costituzionale Ad esempio le leggi sui bitcoin Le leggi sulla finanza Cioè cose che poi Una volta che vengono Cioè io prima facevo L'esempio della Brexit Ho capito però Il Parlamento dopo perde potere Perché chi cazzo Può sapere di tutto Sti qua devono votare Per ogni cosa Ma infatti Ma infatti Il referendum Quanti ne facciamo No ma non parlo del referendum Però parlo dei Cioè comunque i parlamentari Votano tutte queste leggi Di cui parli E non sono competenti In tutte le materie Di cui parli Di cui parlano Cioè comunque La democrazia funziona Anche per approssimazioni Non è che puoi arrivare Alla competenza totale Che devi solo essere Un esperto di finanza Per farla finanziaria Sì però un conto È essere super esperto Super esperto Di qualsiasi cosa Da una parte È credere che la terra Sia un disco del cazzo È molto complesso Capisci Io comunque E poi magari Io comunque no E poi magari la terra è piatta Io vorrei avere Qualc'è chiamare Com'è che si chiama Arald Farad Arald Conosciamo come si chiama Di nome Super fascista Arald Adrian Adrian o Ardian Adrian Adrian Adria Adria Fartade Però io facevo Chiamalo Voglio sapere se la terra è piatta Io prima facevo Arald Io prima facevo L'esempio della Brexit Perché la Brexit È successo esattamente questo Assolutamente Ha fatto leva Sull'ignoranza delle persone La scuola Giordana La scuola E non ci sarebbe stata la Brexit Per me quello lì è stato Uno dei giorni Più in Fausti Degli ultimi vent'anni Dell'umanità Esatto Perché per me La comunità europea Che dico voglio anche la Russia Era un processo irreversibile Il fatto che qualcuno sia uscito Ha creato un precedente Che per me era sconvolgente È grave Sconvolgente Io mi dispiace Ma auguro il peggio All'Inghilterra Anch'io Perché è l'unico modo Anch'io E non solo Sarò pronto Ad accoglierli Senza nessun tipo di dati E che permettimi Vorrei evitare Di trovarmi In questo peggio Infatti banda la gente a scuola Punto Io comunque Ci ho riflettuto Non vorresti Nessun parametro Neanche minimo No Per il voto no Vorrei che venisse insegnata a scuola Vorrei che la scuola Funzionasse come deve funzionare Quindi se passi la scuola È passato il bar di base Sì Secondo me Cioè devi essere scolarizzato Tecnicamente la scuola servirà La scuola dell'obbligo La devi aver passata Siccome puoi votare a 18 anni Secondo me il check dovrebbe essere Sulla scuola dell'obbligo Sì Deve aver finito All'emé Sì elementare medie A meno di speciale banca E liceo Ma c'è anche liceo Perché fino a 16 anni Sì Ma quindi non devi aver completato il liceo Non completato Ma i primi due anni sì Ma infatti la scuola deve essere a politica La scuola deve darti gli strumenti Per capire Per capire il tuo dovere di cittadino Io paradossalmente legherei Forse guarda Forse l'unica cosa veramente cattiva che farei Legherei La possibilità di votare Al diploma Io lo legherei al reddito Al diploma Lo legherei Forse se dovessimo fare una limitazione Lo legherei al diploma Sì però allora renderei obbligatoria La scuola fino a 18 anni Punto Farei prima Non so se lo dovrebbe rendere obbligatorio Lo legherei al diploma Puoi votare Solo se hai fatto anche il liceo Un istituto professionale Io dico diploma Qualsiasi scuola Qualsiasi scuola superiore Ovviamente non era Non era così dittatoriale Quello che dicevo No però è mio pensiero Questo è il mio pensiero No io sto aiutandoti a emergere Dai fondamenti del nazismo No forse Non andartene perché sto chiudendo Non andartene perché sto chiudendo Lo sto spegnendo Lo legherei No lo sto spegnendo Lo legherei Esclusivamente a Aver completato una scuola secondaria Si chiama secondaria? Istituto professionale Secondaria superiore Secondaria superiore Forse lo legherei a quello per votare Forse al limite Detto questo Allora ragazzi Vi ringraziamo tantissimo All'infinito Per averci seguito Fino a queste 22 e 57 Di martedì 13 giugno Siamo stati live Tutti i giorni da giovedì a oggi Dalle 15 alle 24 passate Ieri siamo stati Fino a luna e passate Il primo giorno pure Fino a luna passata Io ne approfitto per ringraziare Ovviamente Giordana Che veramente Giordana Si è Sbolognata E spupazzata Una quantità di rotture di cazzo Che la metà basta Se anche solo stare qui Con me e Aligi E E fammi dare E fammi dare Della totalitarista E con Aligi Anche quando c'era stato qua Quindi un ringraziamento Veramente speciale A Giordana Che se non ci fosse lei Bisognerebbe inventarle Lo dico con grande verità E grande concretezza E grande credenza Ti porto il Minecraft Che ci sono le istruzioni Per creare Un ringraziamento Ad Alessio Che si è sbattuto Per tutta la roba grafica Che vedete Aligi Che comunque è stato con noi Tutto il weekend A Francesco E Vincenzo Che sono stati a Los Angeles E ci hanno riempito di contenuti Che trovate su multiplayer Non vi ringraziare Io voglio un gettone Per sta roba qua Grazie ovviamente A Cristina In chat A Zacco A tutti quelli A Jacopo Da casa Ad Alessandro A tutti quelli Che comunque A Raffaele A tutti quelli Che in un modo Nell'altro Hanno Beh Non vi cito Tutta la redazione Di multiplayer A tutto il gruppo Che ha prodotto contenuti Ha fatto video Ha fatto montaggio Qualsiasi cosa possibile Un particolare Ad Alessia Alessia Che ha seguito Tutti i social Esatto Che fare i social Vuol dire Lavorare prima della live Guardarsi tutta la live E lavorare dopo la live Clippare e pubblicare dopo Probabilmente ha lavorato Più di noi tre mesi in sé Un ringraziamento In un modo o nell'altro Anche al buon Pucci Che alla fine Ci ha permesso di fare questa roba Non con poche rotture di coglioni Per arrivare qui Se stappa Pucci Se stappa Grazie comunque Al White Rabbit Che ci ha ospitato Se passate da Roma Venite a farcelo un salto Perché comunque Si sta bene Si mangia bene E sono carinissimi Ma soprattutto Non smetterò mai di dirlo Grazie a tutti voi in chat Che dibattito Non dibattito Pensieri diversi Sonari Boxari Nintendari PCisti E' sempre bellissimo Che si sta qui a discutere Con così tanto fervore Accanimento e calore A favore della propria console Il proprio PC E tutto il resto Puntando sempre sul fatto Che tutti si debba giocare Quindi E' stata una grande settimana Numeri incredibili Una bellissima settimana Grazie per averci scelti Impensabili Avresti pensato a questi numeri? Assolutamente no Grazie Di tipo che percentuale? Avresti detto il 50% O il 60%? Beh avresti detto Avremmo fatto il 25-30% In meno 25-30% in meno? Sì Grazie di nuovo A tutti voi Che siete stati in chat E' stato bellissimo Veramente divertente Molto stancante Sicuramente Non lo ripeteremo mai più Quindi è stato un unicum Domani mattina Credo che le live Riprenderanno Con la pausa caffè Con Aligi Se Francesco Serino Quindi fate così Cominciano a mandare Milioni di messaggi Privati su Instagram A Serino Perché se Serino c'è Giovedì faremo anche Il cortocircuito Altrimenti il cortocircuito Torna mercoledì prossimo Ci spera non torni mai più Questo è già così Perché nel suo stato totalitarista Il cortocircuito Sarebbe imbavagliato Assolutamente Da abolire Chiaramente Scrivete già a Francesco Perché credo che Se non ricordo male Le nostre 20 e 30 Stava già carta Se non ricordo male Prima di poi riprendere il volo Per entrare su Magari scrivetegli in lingua Per Oakland Prima di ritornare Esatto A Oakland E poi arrivare a Roma Esatto Quindi grazie a tutti Un abbraccio fortissimo E ci rivediamo A partire appunto Da domani mattina Già immagino Con una pausa caffè Con Aligi Alle 10 in punto Con Aligi Brigitte Bardot Bardot Io poi che faccio Brigitte Bejo Spengo Ah mentre canti Vai Continua Non le so le parole Vai vai di nuovo Che lascio aperto Non lo faccio più Fanno un altro Dai dai Riparti dall'inizio Fai ancora E io abbasso man mano Abbasso man mano Dai Non lo so la canzone Prova Sassuera 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 Papà Epsilon Non la so più Ma fa quello che odi Sassuera 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 Grazie a tutti.